di dino buzzati il deserto dei tartari voce di lorenzo pieri capitolo primo nominato ufficiale giovanni drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la fortezza bastiani sua prima destinazione si fece svegliare che era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa di tenente come ebbe finito al lume di una lampada a petrolio si guardò nello specchio ma senza trovare la letizia che aveva sperato nella casa c'era un grande silenzio si udivano solo piccoli rumori da una stanza vicina sua mamma stava alzandosi per salutarlo era quello il giorno atteso da anni il principio della sua vera vita pensava alle giornate squallide all'accademia militare si ricordò delle amare sere di studio quando sentiva fuori nelle vie passare la gente libera e presumibilmente felice delle sveglie invernali nei cameroni gelati dove ristagnava l'incubo delle punizioni ricordò la pena di contare i giorni ad uno ad uno che sembrava non finissero mai adesso era finalmente ufficiale non aveva più da consumarsi i suoi libri né da tremare alla voce del sergente eppure tutto questo era passato tutti quei giorni che gli erano sembrati odiosi si erano ormai consumati per sempre formando mesi ed anni che non si sarebbero ripetuti mai sì adesso egli era ufficiale avrebbe avuto soldi le belle donne lo avrebbero forse guardato ma in fondo si accorse giovanni drogo il tempo migliore la prima giovinezza era probabilmente finito così drogo fissava allo specchio vedeva uno stentato sorriso sul proprio volto che in vano aveva cercato di amare che cosa senza senso perché non riusciva a sorridere con la doverosa spensieratezza mentre salutava la madre perché non badava neppure alle sue ultime raccomandazioni e arrivava soltanto a percepire il suono di quella voce così familiare ed umano perché girava per la camera con inconcludente nervosismo senza riuscire a trovare l'orologio il frustino il berretto che pure si trovavano al loro giusto posto non partiva certo per la guerra decine di tenenti come lui i suoi vecchi compagni lasciavano a quella stessa ora la casa paterna fra allegre e risate come se andassero a una festa perché non riuscivano dalla bocca per la madre che frasi generiche vuote di senso invece che affettuose e tranquillanti parole l'amarezza di lasciare per la prima volta la vecchia casa dove era nato alle speranze i timori che porta con sé ogni mutamento la commozione di salutare la mamma gli riempivano sì l'animo ma su tutto ciò gravava un insistente pensiero che non gli riusciva ad identificare come un vago presentimento di cose fatali quasi egli stesse per cominciare un viaggio senza ritorno l'amico francesco vescovi lo accompagnò a cavallo per il primo tratto di strada lo scalpitio delle bestie risuonava nelle strade deserte albeggiava la città era ancora immersa nel sonno qua e là agli ultimi piani qualche persiana si apriva comparivano facce stanche apatici occhi fissavano per un momento la nascita meravigliosa del sole i due amici non parlavano drogo pensava a come potesse essere la fortezza bastiani ma non riusciva a immaginarla non sapeva neppure esattamente dove si trovasse né quanta strada ci fosse da fare alcuni gli avevano detto una giornata di cavallo altri meno nessuno di coloro a cui aveva chiesto c'era in verità mai stato alle porte della città vescovi cominciò vivacemente a parlare delle solite cose come se drogo andasse a una passeggiata poi a un certo punto vedi quel monte erboso si proprio quello vedi in cima una costruzione diceva è già un pezzo della fortezza una ridotta avanzata ci sono passato due anni fa mi ricordo con mio zio per andare a caccia erano ormai usciti dalla città cominciavano i campi di gran turco i prati i rossi boschi autunnali per la strada bianca battuta dal sole avanzavano i due fianco a fianco giovanni e francesco erano amici vissuti insieme per lunghi anni con le stesse passioni le stesse amicizie si erano visti sempre ogni giorno poi vescovi si era fatto grasso drogo invece era diventato ufficiale e adesso sentiva come l'altro fosse oramai lontano tutta quella vita facile ed elegante oramai non gli apparteneva più cose gravi e sconosciute lo attendevano il suo cavallo e quello di francesco gli pareva avevano già un passo diverso uno scalpitare il suo meno leggero e vivace come un fondo di ansia e fatica come se anche la bestia sentisse che la vita stava per cambiare erano giunti in cima ad una salita drogo si voltò indietro a guardare la città contro luce fumi mattutini si alzavano dai tetti vide di lontano la propria casa identificò la finestra della sua stanza probabilmente i vetri erano aperti le donne stavano mettendo in ordine avrebbero disfatto il letto chiuso in un armadio gli oggetti poi sprangato le persiane per mesi e mesi nessuno ci sarebbe entrato tranne la paziente polvere e nei giorni di sole tenui strisce di luce eccolo rinserrato nel buio il piccolo mondo della sua fanciullezza la madre l'avrebbe conservato così affinché lui tornando ci si ritrovasse ancora perché lui potesse là dentro rimanere ragazzo anche dopo la lunga assenza o certo lei si illudeva di poter conservare intatta una felicità per sempre scomparsa di trattenere la fuga del tempo che riaprendo le porte e le finestre al ritorno del figlio le cose sarebbero tornate come prima l'amico vescovi qui lo salutò affettuosamente e drogo continuò solo per la strada avvicinandosi alle montagne il sole era a picco quando giunse all'imbocco della valle che conduceva alla fortezza a destra in cima ad un monte si vedeva la ridotta che il vescovi gli aveva indicato non sembrava che ci dovesse essere ancora molta strada ansioso di arrivare drogo senza fermarsi a mangiare spinse il cavallo già stanco su per la strada che si faceva ripida e incassata fra precipitosi costoni gli incontri erano sempre più rari ad un carrettiere giovanni domandò quanto tempo ci fosse per arrivare alla fortezza la fortezza rispose l'uomo quale fortezza la fortezza bastiani disse drogo da queste parti non ci sono fortezze fece il carrettiere non l'ho mai sentito dire evidentemente era male informato drogo riprese il cammino e avvertiva una sottile inquietudine man mano che il pomeriggio avanzava e gli scrutava i bordi altissimi della valle per scoprire la fortezza immaginava una specie di antico castello con muraglie vertiginose passando le ore sempre più si convinceva che francesco gli aveva dato una informazione sbagliata la ridotta da lui indicata doveva essere già molto indietro e si avvicinava la sera guardateli giovanni drogo e il suo cavallo come piccoli sul fianco delle montagne che si fanno sempre più grandi e selvagge egli continua a salire per arrivare alla fortezza in giornata ma più svelte di lui dal fondo dove romba il torrente più svelte di lui salgono le ombre a un certo punto esse si trovano proprio all'altezza di drogo sul versante opposto della gola sembrano per un momento rallentare la corsa come per non scoraggiarlo poi scivolano su per i greppi e i roccioni il cavaliere è rimasto di sotto tutto il vallone era già zeppo di tenebre violette solo le nude creste erbose a incredibile altezza erano illuminate dal sole quando drogo si trovò improvvisamente davanti nera e gigantesca contro il purissimo cielo della sera una costruzione militaresca che sembrava antica e deserta giovanni si sentì battere il cuore poiché quella doveva essere la fortezza ma tutto dalle mura al paesaggio traspirava un'aria inospitale e sinistra girò attorno senza trovare l'ingresso benché fosse già scuro nessuna finestra era accesa né si scorgevano lumi di scolte sul ciglio dei muraglioni solo un pipistrello c'era che oscillava contro una nube bianca finalmente drogo provò a chiamare oi là gridò c'è nessuno dall'ombra accumulata ai piedi delle mura sorse allora un uomo un tipo di vagabondo e di povero con una barba grigia e un piccolo sacco in mano nella penombra però non si distingueva bene solo il bianco dei suoi occhi dava riflessi drogo lo guardò con riconoscenza di chi cerchi il signore domandò la fortezza cerco è questa non c'è più fortezza qui fece lo sconosciuto con voce bonaria è tutto chiuso saranno dieci anni che non c'è nessuno e dov'è la fortezza allora chiese drogo improvvisamente irritato contro quell'uomo che fortezza forse quella e così dicendo lo sconosciuto tendeva un braccio ad indicare qualcosa in uno spiraglio delle vicine rupi già ricoperte di buio dietro una caotica scalinata di creste ad una lontananza incalcolabile immerso ancora nel rosso sole del tramonto come uscito da un incantesimo giovanni drogo vide allora un nudo colle e sul ciglio di esso una striscia regolare e geometrica di uno speciale colore giallastro il profilo della fortezza o quanto lontana ancora chissà quante ore di strada e il suo cavallo era già sfinito drogo la fissava affascinato si domandava che cosa ci potesse essere di desiderabile in quella solitaria bicocca quasi inaccessibile così separata dal mondo quali segreti nascondeva ma erano gli ultimi istanti già l'ultimo sole si staccava lentamente dal remoto colle e superi gialli bastioni irrompevano le livide folate della notte sopraggiungente capitolo secondo il buio lo raggiunse ancora in cammino la valle si era stretta e la fortezza era scomparsa dietro le montagne incombenti non c'erano lumi neppure voci di uccelli notturni solo di tanto in tanto arrivava suono di acque lontane provò a chiamare ma gli echi gli respinsero la voce con timbro nemico legò il cavallo a un moncone di albero sul ciglio della via dove avrebbe potuto trovare dell'erba qui si sedette la schiena sulla scarpata aspettò che venisse il sonno e intanto pensava alla strada che rimaneva alla gente che avrebbe trovato alla fortezza alla vita futura senza riconoscere alcun motivo di gioia il cavallo batteva a intervalli le unghie sul terreno in modo antipatico e strano all'alba riprendendo la via si accorse che sull'opposto versante del ballone a uguale altezza c'era un'altra strada e poco dopo vi scorse qualche cosa che si muoveva il sole non era ancora sceso fin laggiù e le ombre ingombravano le rientranze impedendo di distinguere bene pure affrettando il passo drogo riuscì a portarsi alla medesima altezza e constatò che era un uomo un ufficiale a cavallo un uomo come lui finalmente una creatura amica con cui avrebbe potuto ridere e scherzare parlare della prossima vita comune di cacce di donne della città che ora sembrava drogo relegata in un mondo lontanissimo stringendosi intanto la valle le due strade si avvicinavano e giovanni drogo vide che l'altro era un capitano non si fidò sulle prime di gridare sarebbe parso inutile e irrispettoso salutò invece a più riprese portando la destra al berretto ma l'altro non rispondeva evidentemente non si era accorto di drogo signor capitano gridò finalmente giovanni vinto dall'impazienza e salutò di nuovo cosa c'è rispose una voce dall'altra parte il capitano fermatosi aveva salutato con correttezza ed ora chiedeva a drogo ragione di quel grido non c'era nella richiesta alcuna severità si capiva però che l'ufficiale era rimasto sorpreso che cosa c'è e che giò ancora la voce del capitano questa volta leggermente irritata giovanni si fermò fece portavoce con le mani e rispose con tutto il fiato niente desideravo salutarla era una spiegazione stupida quasi offensiva perché poteva lasciar pensare ad uno scherzo drogo se ne pentì immediatamente in che razza di ridicolo impiccio era andato mai a cacciarsi tutto perché non era capace di bastare a se stesso chi è gridò di rimando il capitano era la domanda temuta da drogo quello strano colloquio da una parte all'altra della valle andava così assumendo il tono di un interrogatorio gerarchico spiacevole inizio perché era probabile se non certo che il capitano fosse uno della fortezza comunque bisognava rispondere tenente drogo gridò giovanni per presentarsi il capitano non lo conosceva non poteva con ogni probabilità afferrare il nome a quella distanza ma parve quietarsi poiché riprese il cammino facendo un segno di intesa come a dire che fra poco si sarebbero incontrati infatti dopo mezz'ora a una stretta della gola comparve un ponte le due vie si congiungevano in una al ponte i due si incontrarono sempre a cavallo il capitano si fece vicino a drogo e gli tese la mano era un uomo sulla quarantina e forse più dal volto asciutto e signorile la sua uniforme era di linee e rozze ma perfettamente in ordine capitano ortiz si presentò stringendogli la mano sembrò a drogo di entrare finalmente nel mondo della fortezza quello era il primo legame e ne sarebbero venuti poi innumerevoli altri di ogni genere che l'avrebbero chiuso dentro il capitano riprese senz'altro il cammino drogo lo seguì al fianco un po indietro per rispetto gerarchico e aspettava qualche piacevole richiamo all'imbarazzante colloquio di poco prima invece il capitano taceva forse non aveva voglia di parlare forse era timido e non sapeva come cominciare essendo la strada ripida e caldo il sole i due cavalli procedevano ad agio finalmente il capitano ortiz disse non avevo afferrato il suo nome a quella distanza poco fa droso mi pare giovanni rispose drogo col g drogo giovanni lei anzi il signor capitano mi deve scusare di poco fa se ho chiamato sa aggiunse confondendosi attraverso la valle non avevo visto il grado effettivamente non si poteva vedere ammise ortiz rinunciando a smentire e rise cavalcarono così un pochetto entrambi un po imbarazzati poi ortiz disse e così dove è diretto alla fortezza bastiani ma non è questa la strada questa si effettivamente tacquero faceva caldo sempre montagne da tutte le parti giganteschi monti erbosi e selvaggi ortiz disse dunque lei viene alla fortezza forse qualche messaggio no signore vado a prendere servizio ci sono stato assegnato assegnato in organico credo di sì in organico servizio di prima nomina allora in organico certo bene bene allora se crede le faccio le mie congratulazioni grazie signor capitano tacquero e andarono avanti ancora un po giovanni aveva una gran sete una borraccia di legno era appesa alla sella del capitano e si sentiva l'acqua dentro che faceva cioc cioc ortiz chiese per due anni scusi signor capitano per due anni per due anni dico farà il solito turno di due anni lei non è vero due anni non so il periodo non mi è stato detto o si capisce due anni tutti voi tenenti di nuova nomina due anni e poi ve ne andate di regola due anni per tutti due anni si capisce per l'anzianità valgono quattro è ben questo che vi importa se no nessuno lo domanderebbe pur di far presto carriera anche alla fortezza ci si adatta no drogo non l'aveva mai saputo ma non volle fare la figura dello stupido tentò una frase generica certo che molti ortiz non insistette pareva che l'argomento non lo interessasse ma ora che il ghiaccio era rotto giovanni provò a domandare ma per tutti alla fortezza l'anzianità è doppia per tutti chi dicevo per gli altri ufficiali ortiz ridacchiò già per tutti immaginarsi per i subalterni soltanto si capisce se no chi farebbe domanda di andarci drogo disse io non ho fatto domanda non ha fatto domanda signor no l'ho saputo soltanto due giorni fa che ero assegnato alla fortezza beh è strano effettivamente tacquero ancora ciascuno pareva pensare a cose diverse ma ortiz disse a meno che giovanni si riscosse comandi signor capitano dicevo a meno che non ci fosse nessun'altra domanda e allora l'hanno assegnata di ufficio può anche darsi signor capitano già deve essere così effettivamente drogo guardava sulla polvere della strada l'ombra netta dei due cavalli le teste che facevano sì sì ad ogni passo sentiva il loro quadruplice scalpitio qualche ronzare di moscone e niente altro la fine della strada non si vedeva ogni tanto ad una curva della valle si scorgeva di fronte altissima tagliata in coste precipitose la via che si arrampicava a zig zag ci si arrivava si guardava allora in su eccola ancora di fronte la strada sempre più alta drogo domandò scusi signor capitano dica dica pure c'è ancora molta strada non molta forse due ore e mezzo anche tre forse di questo passo forse per mezzogiorno ci siamo effettivamente tacquero per un pezzo i cavalli erano tutti sudati quello del capitano era stanco trascinava le zampe ortiz disse viene dall'accademia reale no sì signore dall'accademia già e dica c'è ancora il colonnello magnus colonnello magnus non mi pare non lo conosco la valle adesso si stringeva chiudendo il passo ai raggi del sole cupe gole laterali si aprivano ogni tanto ne scendevano venti gelidi in cima si scorgevano ripidissimi monti a cono due tre giorni si sarebbe detto non bastavano a raggiungere la vetta tanto sembravano alti ortiz disse e mi dica tenente c'è ancora il maggiore bosco fa ancora scuola di tiro no signore non mi pare c'è zimmerman il maggiore zimmerman già zimmerman effettivamente l'ho sentito nominare la questione è che sono passati molti anni dai miei tempi ad oggi saranno tutti cambiati oramai entrambi ora pensavano a qualche cosa la strada era uscita nuovamente al sole montagne si succedevano a montagne adesso più ripide e con alcune pareti di roccia drogo disse l'ho vista ieri sera da lontano che cosa la fortezza sì la fortezza fece una pausa e poi per mostrarsi gentile deve essere grandiosa vero mi è sembrata immensa grandiosa la fortezza no no è una delle più piccole una costruzione vecchissima è da lontano che fa un certo effetto tacque un momento aggiunse vecchissima completamente superata ma è una delle principali vero no no è una fortezza di seconda categoria rispose ortiz pareva che ci trovasse gusto a dirne male ma in un tono speciale così come uno si diverte a nominare i difetti del figlio sicuro che saranno sempre ridicola cosa di fronte ai suoi meriti sconfinati è un tratto di frontiera morta aggiunse ortiz così non l'hanno mai cambiata è sempre rimasta come un secolo fa come frontiera morta una frontiera che non dà pensiero davanti c'è un grande deserto un deserto un deserto effettivamente pietre e terra secca lo chiamano il deserto dei tartari drogo domandò perché dei tartari c'erano i tartari anticamente credo ma più che altro una leggenda nessuno deve essere passato di là neppure nelle guerre passate così la fortezza non è mai servita a niente a niente disse il capitano alzandosi sempre più la strada gli alberi erano finiti solo rari cespugli rimanevano qua e là per il resto prati riarsi rocce frane di terra rossa scusi signor capitano ci sono paesi vicini e vicini no c'è san rocco ma saranno 30 chilometri poco da divertirsi allora mi immagino poco da divertirsi poco effettivamente l'aria era diventata più fresca i fianchi delle montagne si arrotondavano lasciando presagire le creste finali e non ci si annoia signor capitano chiese giovanni con accento confidenziale ridendo come per dire che lui non ci avrebbe badato lo stesso uno si abitua rispose ortiz e aggiunse con sottinteso rimprovero io ci sono da quasi 18 anni mi sbaglio anzi 18 anni compiuti 18 anni fece giovanni impressionato 18 rispose il capitano un volo di corvi passò rasente ai due ufficiali si inabissò nell'imbuto della valle corvi disse il capitano giovanni non rispose stava pensando alla vita che lo attendeva si sentiva estraneo a quel mondo a quella solitudine a quelle montagne domandò ma gli ufficiali che vanno a fare lassù il servizio di prima nomina ce n'è qualcuno che poi si ferma pochi adesso rispose ortiz quasi pentito di aver parlato male della fortezza accorgendosi che l'altro adesso esagerava quasi nessuno anzi adesso tutti vogliono la guarnigione brillante una volta era un onore la fortezza bastiani adesso pare quasi una punizione tacque giovanni ma l'altro insisteva dopo tutto è una guarnigione di confine in genere ci sono elementi di primo ordine un posto di confine è sempre un posto di confine effettivamente drogo taceva con addosso una improvvisa oppressione l'orizzonte si era allargato sullo sfondo comparivano curiose sagome di montagne rocciose rupi a guzze che si accavallavano nel cielo adesso anche nell'esercito le concezioni sono cambiate continuava ortiz una volta la fortezza bastiani era un grande onore adesso dicono che è una frontiera morta non pensano che la frontiera è sempre frontiera e non si sa mai un ruscello attraversava la strada si fermarono per far bere i cavalli e scesi di sella camminarono un po su e giù per sgranchirsi ortiz disse sa quello che c'è effettivamente di primo ordine e rise di gusto che cosa signor capitano la cucina vedrà la fortezza come si mangia e questo spiega la frequenza delle ispezioni ogni 15 giorni un generale drogo rise per il complimento non riusciva a capire se ortiz fosse un cretino nascondesse qualche cosa ottenesse quei discorsi così senza il minimo impegno benissimo fece giovanni ho una fame o non ci manca molto oramai vede quella gobba con una macchia di ghiaia ecco proprio dietro ripreso il cammino proprio dietro la gobba con una macchia di ghiaia i due ufficiali sbucarono sul ciglione di un pianoro in leggera salita e la fortezza comparve loro dinnanzi a poche centinaia di metri pareva davvero piccola in confronto alla visione della sera prima dal forte centrale che in fondo assomigliava ad una caserma con poche finestre partivano due bassi muraglioni merlati che lo collegavano alle ridotte laterali due per parte i muri sbarravano così debolmente l'intero valico largo circa 500 metri chiuso ai fianchi da alte precipitose rupi a destra proprio sotto la parete della montagna il pianoro si infossava in una specie di sella la passava l'antica strada del valico e terminava contro le mura il forte era silenzioso immerso nel pieno sole meridiano privo di ombre i suoi muri il fronte non si scorgeva essendo rivolto a settentrione si stendevano nudi e giallastri un camino emetteva pallido fumo lungo tutto il ciglione dell'edificio centrale delle mura e delle ridotte si vedevano decine di sentinelle col fucile in spalla camminare su e giù metodiche ciascuna per un piccolo tratto simile a moto pendolare esse scandivano il cammino del tempo senza rompere l'incanto di quella solitudine che risultava immensa le montagne a destra e a sinistra si prolungavano a vista d'occhio in dirupate catene apparentemente inaccessibili anch'esse almeno a quell'ora avevano un colore giallo e riarso istintivamente giovanni drogo fermò il cavallo girando lentamente gli occhi fissava le tetre mura senza riuscire a decifrarne il senso pensò ad una prigione pensò ad una reggia abbandonata un lieve soffio di vento fece ondeggiare una bandiera sopra il fronte che prima pendeva floscia confondendosi con l'antenna si udì una vaga eco di tromba le sentinelle camminavano lente sul piazzale dinnanzi alla porta d'ingresso tre quattro uomini non si capiva per la distanza se fossero soldati stavano caricando dei sacchi sopra un carro ma tutto ristagnava in un torpore misterioso anche il capitano ortiz si era fermato a guardare l'edificio eccola disse benché fosse perfettamente inutile drogo pensò adesso mi domanda che cosa me ne pare e ne ebbe fastidio invece il capitano tacque non era imponente la fortezza bastiani con le sue basse mura né in alcun modo bella né pittoresca di torri e bastioni assolutamente nulla c'era che consolasse quella nudità che ricordasse le dolci cose della vita eppure come la sera prima dal fondo della gola drogo la guardava ipnotizzato e un inesplicabile orgasmo gli entrava nel cuore e dietro che cosa c'era di là di quell'inospitale edificio di là dei merli delle case matte delle polveriere che chiudevano la vista quale mondo si apriva come appariva il regno del nord il pietroso deserto per dove nessuno era mai passato la carta ricordava vagamente drogo segnava al di là del confine una vasta zona con pochissimi nomi ma dall'alto della fortezza si sarebbe visto almeno qualche paese qualche prato una casa oppure soltanto la desolazione di una landa disabitata egli si sentì improvvisamente solo e la sua baldanza di soldato così disinvolta fino allora fino a che duravano le placide esperienze di guarnigione con la comoda casa con gli amici allegri sempre al fianco con le piccole avventure nei giardini notturni tutta la sicurezza in sé gli era venuta di colpo a mancare gli pareva la fortezza uno di quei mondi sconosciuti a cui mai aveva pensato sul serio di poter appartenere non perché gli sembrassero odiosi ma perché infinitamente lontani dalla sua solita vita un mondo ben più impegnativo senza alcuno splendore che non fosse quello delle sue geometriche leggi o tornare non varcare neppure la soglia della fortezza e ridiscendere al piano alla sua città alle vecchie abitudini questo fu il primo pensiero di drogo e non non importa se tanta debolezza fosse vergognosa per un soldato lui era anche pronto a confessarla se occorresse purché lo lasciassero subito andare ma una densa nube si levava bianca dall'invisibile orizzonte del nord sopra gli spalti e imperturbabili sotto il sole a picco le sentinelle camminavano su e giù come automi il cavallo di drogo fece un nitrito poi ritornò il grande silenzio giovanni staccò finalmente gli occhi dalla fortezza e guardò di fianco a sé il capitano sperando in una parola amica anche ortiz era rimasto immobile e fissava intensamente le gialle mura sì lui che ci viveva da diciotto anni le contemplava quasi ammagliato come se rivedesse un prodigio pareva che non si stancasse di rimirarle e un vago sorriso insieme di gioia e di tristezza illuminava lentamente il suo volto capitolo terzo appena arrivato drogo si presentò al maggiore matti aiutante maggiore in prima il tenente di picchetto un giovane disinvolto e cordiale di nome carlo morel lo accompagnò attraverso il cuore della fortezza dall'androne di ingresso donde si intravedeva un grande cortile deserto i due si avviarono per un largo corridoio di cui non si riusciva a vedere la fine il soffitto si perdeva nella penombra ogni tanto una piccola striscia di luce entrava da sottili finestrette solo al piano di sopra incontrarono un soldato che portava un fascio di carte i muri nudi ed umidi il silenzio lo squallore delle luci tutti là dentro parevano essersi dimenticati che in qualche parte del mondo esistevano fiori donne ridenti case allegre e ospitali tutto là dentro era una rinuncia ma per chi per quale misterioso bene ora essi procedevano al terzo piano lungo un corridoio esattamente identico al primo si udiva al di là di certi muri la lontana ecco di una risata che sembrò a drogo inverosimile il maggiore matti era grassoccio e sorrideva con bonarietà eccessiva il suo ufficio era vasto grande era pure la scrivania ingombra ordinatamente di carte c'era un ritratto a colori del re e la sciabola del maggiore appesa ad un apposito piolo di legno drogo si presentò sull'attenti mostrò i documenti personali cominciò a spiegare di non aver fatto alcuna domanda per essere assegnato alla fortezza era deciso se appena possibile a farsi trasferire ma il matti lo interruppe ho conosciuto anni fa suo padre tenente un esemplare gentiluomo certo lei vorrà fare onore alla sua memoria presidente dell'alta corte se non mi sbaglio no signor maggiore fece drogo era medico mio padre ah già medico perbacco mi confondevo medico sì sì matti parve per un momento imbarazzato e drogo notò come portando spesso la mano sinistra al colletto cercasse di nascondere una macchia di unto rotonda una macchia evidentemente fresca sul petto dell'uniforme il maggiore si riprese subito mi compiaccio di vederla quassù disse sa come ha detto sua maestà pietro terzo la fortezza bastiani sentinella della mia corona e io aggiungerò che è un grande onore appartenerci non è forse persuaso tenente diceva queste cose meccanicamente come una formula imparata da anni che bisognava tirar fuori in determinate occasioni appunto signor maggiore disse giovanni ha perfettamente ragione ma le confesso è stata per me una sorpresa io in città ho famiglia io preferirei se possibile rimanere ah ma lei dunque vuole lasciarci prima ancora di essere arrivato si può dire le confesso che mi dispiace mi dispiace non è che io voglia io non mi permetto di discutere voglio dire che ho capito fece il maggiore con un sospiro come se quella fosse una vecchia storia e lui la sapesse compatire ho capito lei la fortezza la immaginava diversa e adesso si è un po spaventato ma mi dica onestamente come fa a giudicare onestamente se è arrivato da pochi minuti drogo disse signor maggiore io non ho proprio niente contro la fortezza soltanto preferirei restare in città o almeno vicino vede le parlo in confidenza vedo che lei queste cose le capisce mi rimetto alla sua cortesia ma certo ma certo esclamò matti con un breve riso siamo qui per questo di malavoglia qui non vogliamo nessuno neanche l'ultima delle sentinelle solo mi dispiace mi sembra che lei sia un bravo ragazzo il maggiore tacque un momento come per meditare la soluzione migliore fu a questo punto che drogo girando un poco la testa a sinistra portò gli sguardi alla finestra aperta sul cortile interno si vedeva il muro di fronte come gli altri gialliccio e battuto dal sole con i rettangoli neri delle rare finestre c'erano anche un orologio che segnava le due e sulla terrazza sommitale una sentinella che camminava su e giù con il fucile in spalla ma sopra il ciglione dell'edificio lontana entro ai riverberi meridiani spuntava una cima rocciosa se ne vedeva solo l'estrema punta e in sé non aveva niente di speciale pure c'era in quel pezzo di rupe per giovanni drogo il primo visibile richiamo della terra del nord del leggendario regno che incombeva sulla fortezza e il resto com'era una luce sonnolenta proveniva da quella parte fra lente fumate di caligine allora il maggiore ricominciò a parlare mi dica chiedeva drogo lei vorrebbe tornarsene immediatamente o non le fa niente aspettare qualche mese per noi le ripeto è indifferente dal punto di vista formale si capisce aggiunse perché la frase non suonasse scortese già che devo tornare fece giovanni sgradevolmente stupito dalla mancanza di difficoltà già che devo tornare mi sembra sia meglio addirittura d'accordo d'accordo lo tranquillizzò il maggiore ma ora le spiego se lei volesse partire subito allora il meglio sarebbe che si desse ammalato lei va all'infermeria in osservazione per un paio di giorni e il medico le fa un certificato ci sono molti del resto che a questa altezza non resistono è proprio necessario darsi ammalato chiese drogo che non amava quelle finzioni necessario no ma semplifica tutto se no lei dovrebbe fare una domanda di trasferimento scritta bisogna mandare questa domanda al comando supremo bisogna che il comando supremo risponda ci vogliono almeno due settimane soprattutto bisogna che se ne occupi il signor colonnello ed è questo che preferirei evitare e queste cose in fondo gli dispiacciono lui si addolora è la parola si addolora come se si facesse torto alla sua fortezza ecco se fossi in lei se proprio devo essere sincero preferirei evitare ma scusi signor maggiore osservò drogo questo io non lo sapevo se andarmene mi può danneggiare allora è un'altra questione nemmeno per idea tenente lei non mi ha capito in nessuno dei casi la sua carriera ne avrà a soffrire si tratta solo come dire di una sfumatura certo e glielo ho detto subito al signor colonnello la cosa non può fare piacere ma se lei è proprio deciso no no fece drogo se le cose sono come dice lei forse è meglio il certificato medico a meno che fece il matti con un sorriso insinuante fermando la frase in sospeso a meno che a meno che lei non si adatti a restare qui quattro mesi il che sarebbe la soluzione migliore quattro mesi chiese drogo già alquanto deluso dopo la prospettiva di potersene andare subito quattro mesi confermò matti la procedura è molto più regolare e adesso le spiego due volte all'anno a tutti viene fatto un esame medico è prescritto formalmente il prossimo sarà fra quattro mesi per lei mi sembra l'occasione migliore e che il certificato sarà negativo di questo se vuole prendo impegno io stesso lei può stare assolutamente tranquillo oltre a ciò proseguì il maggiore dopo una pausa oltre a ciò quattro mesi sono quattro mesi e bastano per un rapporto personale può star sicuro che il signor colonnello glielo farà e lei sa che valore può avere per la sua carriera ma intendiamoci intendiamoci bene questo è un semplice mio consiglio lei è assolutamente libero sì signore fece drogo capisco perfettamente il servizio qui non è faticoso sottolineò il maggiore quasi sempre servizio di guardia e la ridotta nuova che è un po più impegnativa nei primi tempi non le sarà certo affidata fatiche niente non abbia paura avrà caso mai da annoiarsi ma drogo ascoltava appena le spiegazioni di matti attratto stranamente dal riquadro della finestra con quel pezzettino di rupe che spuntava sopra il muro di faccia il vago sentimento che non riusciva a decifrare gli si insinuava nell'animo forse una cosa stupida e assurda una suggestione senza costrutto nello stesso tempo si sentiva alquanto rasserenato gli premeva ancora di andarsene ma senza più l'ansia di prima quasi si vergognava delle apprensioni avute all'arrivo forse che lui non doveva essere all'altezza di tutti gli altri una immediata partenza ora pensava poteva equivalere ad una confessione di inferiorità così l'amor proprio lottava contro il desiderio della vecchia familiare esistenza signor maggiore disse drogo la ringrazio dei suoi consigli ma mi lasci pensare fino a domani benissimo fece il matti con evidente soddisfazione e stasera vuole farsi vedere dal colonnello a mensa o preferisce lasciare la cosa impregiudicata ma rispose giovanni mi parrebbe inutile stare nascosto tanto più se poi devo restare quattro mesi meglio disse il maggiore così si sentirà incoraggiato vedrà che simpatica gente tutti ufficiali di primo ordine matti sorrise e drogo capì che era venuto il momento di andarsene ma prima egli chiese signor maggiore chiese con voce apparentemente tranquilla posso dare un'occhiata al nord vedere cosa c'è al di là delle mura al di là delle mura non sapevo che lei si interessasse di panorami rispose il maggiore un'occhiata soltanto signor maggiore solo per una curiosità ho sentito dire che c'è un deserto e io non ne ho mai visti non vale la pena tenente un paesaggio monotono non c'è proprio niente di bello di arretta a me non ci pensi non insisto signor maggiore fece drogo credevo che non ci fossero difficoltà il maggiore matti uni quasi in atto di preghiera alle punte delle sue dita grassocce lei mi ha chiesto disse proprio l'unica cosa che non posso concederle sulle mura e nei corpi di guardia possono andare solo i militari di servizio occorre sapere la parola d'ordine ma nemmeno in via eccezionale nemmeno a un ufficiale nemmeno a un ufficiale ah lo capisco bene a loro delle città queste minuzie sembrano ridicole la parola d'ordine non è poi un gran segreto laggiù qui invece è un'altra cosa ma scusi se insisto signor maggiore dica dica pure tenente volevo dire non c'è nemmeno una feritoia una finestra da cui si possa guardare una sola una sola nello studio del signor colonnello nessuno purtroppo ha pensato a un bel vedere per i curiosi ma non ne vale la pena le ripeto un paesaggio che non vale niente o ne avrà da stufarsi di quel panorama se si decide a fermarsi grazie signor maggiore a comandi e salutò sull'attenti matti fece un cenno amichevole con la mano arrivederci tenente ma non ci pensi un paesaggio che non val niente le garantisco un paesaggio stupidissimo quella sera stessa però il tenente morel smontato dal servizio di picchetto condusse di nascosto drogo sul ciglio delle mura perché potesse vedere un lunghissimo corridoio illuminato da rare lanterne accompagnava tutto lo schieramento delle mura da un limite all'altro del valico ogni tanto c'era una porta magazzini laboratori corpi di guardia camminarono per circa 150 metri fino all'ingresso della terza ridotta una sentinella armata stava sulla soglia morel chiese di parlare al tenente grotta che comandava la guardia così a dispetto del regolamento poterono entrare giovanni si trovò in un piccolo andito di passaggio su una parete sotto un lume c'era una tabella con i nomi dei soldati di servizio vieni vieni di qui disse morel a drogo è meglio far presto drogo lo seguì per una stretta scala che sfociava nella libera luce sugli spalti della ridotta alla sentinella che incrociava in quel tratto il tenente morel fece un cenno come per dire che le formalità erano inutili giovanni si trovò improvvisamente affacciato alla merlatura perimetrale dinanzi a lui inondata dalla luce del tramonto si sprofondava la valle si aprivano ai suoi occhi i segreti del settentrione un vago pallore si era fatto sul volto di drogo impietrito che guardava la vicina sentinella si era fermata e un silenzio sterminato pareva essere sceso fra gli aloni del crepuscolo poi drogo chiese senza muovere gli sguardi e dietro dietro a quelle rocce com'è tutto così fino in fondo non l'ho mai visto rispose morel bisogna andare alla ridotta nuova quella laggiù in cima a quel cono di là si vede tutta la pianura davanti dicono e qui tacque dicono che cosa dicono chiese drogo e una insolita inquietudine tremava nella sua voce dicono che sia tutta sassi una specie di deserto sassi bianchi dicono come se ci fosse la neve tutto sassi e basta così dicono e qualche acquitrino ma in fondo al nord si vedrà bene qualcosa all'orizzonte di solito ci sono le nebbie disse morel che aveva perduto la sua cordiale esuberanza di prima ci sono le nebbie del nord che non lasciano vedere le nebbie esclamò drogo incredulo non resteranno mica in permanenza qualche giorno l'orizzonte sarà pure sereno quasi mai sereno neppure d'inverno ma ci sono quelli che dicono di aver visto dicono di aver visto che cosa si sono sognati si sono vacci a credere ai soldati tu uno dice una cosa uno dice un'altra certi dicono di avere visto delle torri bianche oppure dicono che c'è un vulcano che fuma ed è là che vengono fuori le nebbie anche ortizzi il capitano garantisce di avere visto saranno ormai cinque anni a sentire lui c'è una lunga macchia nera che dovrebbero essere foreste tacquero dove mai drogo aveva già visto quel mondo c'era forse vissuto in sogno o l'aveva costruito leggendo qualche antica fiaba gli pareva di riconoscerle le basse rupi in rovina la valle tortuosa senza piante né verde quei precipizi a sghembo e infine quel triangolo di desolata pianura che le rocce davanti non riuscivano a nascondere ecchi profondissimi dell'animo suo si erano ridestati e lui non li sapeva capire ora drogo mirava il mondo del settentrione la landa disabitata attraverso la quale gli uomini si diceva mai erano passati mai di là erano giunti nemici mai si era combattuto mai era successo niente e così domandò morel cercando un tono gioviale e così ti piace ma solo questo drogo seppe dire desideri confusi gli navano dentro insieme con insensate paure si udì una tromba un suono piccolo di tromba chissà da dove è meglio che tu vada adesso consigliò morel ma giovanni sembrò non sentire intento a cercare qualche cosa fra i propri pensieri le luci della sera si affievolivano e il vento ridestato dalle ombre strisciava lungo le architetture geometriche della fortezza per riscaldarsi la sentinella aveva ripreso a camminare fissando di tanto in tanto giovanni drogo a lui sconosciuto è meglio che tu vada adesso ripete morel prendendo il collega per un braccio capitolo quarto molte volte egli era stato solo in alcuni casi anche da bambino smarrito per la campagna altre volte nella città notturna nelle vie abitate dai delitti e persino la notte prima che aveva dormito per strada ma adesso era una cosa ben diversa adesso che era finita l'eccitazione del viaggio e i suoi nuovi colleghi erano già a dormire e lui sedeva nella sua camera alla luce della lampada sul bordo del letto triste e sperduto adesso si capiva sul serio che cosa fosse la solitudine una camera non brutta tutta tapezzata di legno con un grande letto un tavolo un incomodo divano un armadio tutti erano stati gentili con lui alla mensa avevano aperto una bottiglia in suo onore ma adesso di lui se ne infischiavano l'avevano già completamente dimenticato sopra il letto un crocefisso di legno dall'altra parte una vecchia stampa con una lunga scritta di cui si leggono le prime parole humanissimi viri francisci angloisi virtutibus nessuno per la durata dell'intera notte sarebbe entrato a salutarlo nessuno in tutta la fortezza pensava a lui e non solo nella fortezza probabilmente anche in tutto il mondo non c'era un'anima che pensasse a drogo ciascuno ha le proprie occupazioni ciascuno basta appena a se stesso persino la mamma poteva darsi persino lei in questo momento aveva in mente altre cose di figlioli non c'era soltanto lui a giovanni aveva pensato tutto il giorno adesso toccava un po anche agli altri più che giusto ammetteva giovanni drogo senza ombra di rimprovero ma intanto egli era seduto sul bordo del letto nella camera della fortezza incisa nel legno della parete adesso notava colorata con straordinaria pazienza una sciabola in grandezza naturale che poteva a prima vista sembrare anche vera meticoloso lavoro di qualche ufficiale che sa mai quanti anni addietro era seduto dunque sul bordo del letto la testa un po piegata in avanti la schiena curva gli sguardi atoni e pesanti e si sentiva solo come mai nella vita ed ecco drogo alzarsi con uno sforzo aprire la finestra guardare fuori la finestra dava sul cortile e non si vedeva niente altro poiché guardava verso sud giovanni cercò in vano di distinguere nella notte le montagne che aveva attraversato per giungere alla fortezza esse risultavano più basse nascoste dal muro di fronte solo tre finestre erano illuminate ma appartenevano alla sua medesima facciata così che dentro non si vedeva il loro alone di luce e quello della stanza di drogo si stampavano sul muro opposto ingigantiti e in uno di essi si agitava un'ombra forse un ufficiale stava spogliandosi chiuse la finestra si spogliò si mise a letto restò qualche minuto a pensare fissando il soffitto pure rivestito di legno si era dimenticato di portarsi da leggere ma quella sera non gli importava perché sentiva un gran sonno spense la lampada dal buio a poco a poco emerse il rettangolo chiaro della finestra e drogo vide brillare le stelle gli parve che un torpore improvviso lo trascinasse nel sonno ma ne aveva troppo coscienza una baronda di immagini quasi di sogno gli passarono davanti cominciavano persino a formare una storia ma dopo qualche istante si accorse di essere ancora sveglio sveglio più di prima perché lo colpì la vastità del silenzio lontanissimo ma era poi vero giunse un colpo di tosse poi vicino un flaccido bloc d'acqua che si propagò per i muri una piccola stella verde egli vedeva rimanendo immobile stava nel suo viaggio notturno raggiungendo il limite superiore della finestra fra poco sarebbe sparita scintillò un attimo proprio sul bordo nero e poi infatti scomparve drogo la volle seguire ancora un po spostando in avanti la testa in quel punto si udì un secondo bloc simile al tonfo di un oggetto nell'acqua si sarebbe ripetuto ancora aspettò in agguato e il suono rumore da sotterranei da acquitrini da case morte passarono minuti immobili il silenzio assoluto pareva finalmente incontrastato signore della fortezza e di nuovo premevano intorno a drogo insensate immagini della vita lontana bloc eccolo ancora l'odioso suono drogo si mise a sedere quello era dunque un rumore a ripetizione gli ultimi tonfi non erano poi stati minori del primo non poteva essere dunque stilicidio in via di esaurimento come era possibile dormire drogo si ricordò che di fianco al letto pendeva un cordone forse di un campanello provò a tirare il cordone cedette e in un remoto meandro dell'edificio rispose quasi impercettibile un breve tintinio che stupidaggine pensò adesso drogo chiamare gente per una simile inezia e chi sarebbe poi venuto nel corridoio fuori risuonarono dopo poco dei passi si fecero sempre più vicini qualcuno bussò alla porta avanti fece drogo comparve un soldato con una lanterna in mano comandi signor tenente qui non si può dormire per dio fece drogo arrabbiandosi a freddo che cos'è questo schifoso rumore qualche tubo che spande guarda di farlo finire non si può assolutamente dormire alle volte basta mettere uno straccio sotto è la cisterna rispose il soldato immediatamente come se fosse pratico della cosa è la cisterna signor tenente non c'è niente da fare la cisterna si signore spiegò il soldato la cisterna dell'acqua proprio dietro quel muro tutti si lamentano ma non si è potuto far niente non è mica solo qui che si sente anche il signor capitano fonzaso ogni tanto urla ma non c'è niente da fare va va pure allora fece drogo la porta si chiuse i passi si allontanarono si ampliò nuovamente il silenzio brillarono le stelle nella finestra giovanni ora pensava alle sentinelle che a pochi metri da lui camminavano come automi su e giù senza un respiro di pausa decine e decine erano gli uomini svegli mentre lui giaceva nel letto mentre tutto pareva immerso nel sonno decine e decine pensava drogo ma per chi per che cosa il formalismo militare in quella fortezza sembrava avere creato un insano capolavoro centinaia di uomini a custodire un valico da cui nessuno sarebbe passato andarsene andarsene al più presto pensava giovanni uscir fuori all'aria da quel mistero nebbioso a la onesta casa a quest'ora la mamma certo stava dormendo le luci tutte spente a meno che non pensasse ancora per un momento a lui era anzi molto probabile egli la conosceva bene per la più piccola cosa stava in ansia e di notte si rigirava nel letto senza trovare riposo ancora il rigurgito della cisterna ancora un'altra stella che sconfinò dal riquadro della finestra e la sua luce continuava a raggiungere il mondo gli spalti della fortezza gli occhi febbrili delle sentinelle ma non più giovanni drogo che attendeva il sonno ora attormentato da sinistri pensieri e se le sottilizzazioni del matti fossero tutte una commedia se in realtà anche dopo i quattro mesi non lo avessero più lasciato partire se con sofistici pretesti regolamentari gli avessero impedito di rivedere la città se avesse dovuto rimanere lassù per anni e anni e in quella stanza su quel solitario letto si fosse dovuta consumare la giovinezza che ipotesi assurde si diceva drogo rendendosi conto della loro stoltezza eppure non riusciva a scacciarle esse dopo poco tornavano a tentarlo protette dalla solitudine della notte gli pareva così di sentire crescere attorno una oscura trama che cercasse di trattenerlo probabilmente non si trattava neppure del matti né questi né il colonnello né alcun altro ufficiale si interessavano menomamente di lui che rimanesse o partisse certo era loro del tutto indifferente tuttavia una forza sconosciuta lavorava contro il suo ritorno in città forse scaturiva dalla sua stessa anima senza che egli se ne accorgesse poi vide un atrio un cavallo su una strada bianca gli sembrò che lo chiamassero per nome e fu preso dal sonno capitolo quinto due sere dopo giovanni drogo montò per la prima volta di servizio alla terza ridotta alle sei del pomeriggio si schierarono nel cortile le sette guardie tre per il forte quattro per le ridotte laterali l'ottava per la ridotta nuova era partita in precedenza perché c'era parecchia strada da fare il sergente maggiore tronc vecchia creatura della fortezza aveva condotto i 28 uomini per la terza ridotta più un trombettiere che faceva 29 erano tutti della seconda compagnia quella del capitano ortiz a cui giovanni era stato assegnato drogo ne prese il comando e sguainò la spada le sette guardie montanti erano allineate a piombo e da una finestra secondo la tradizione il colonnello comandante le osservava sulla terra gialla del cortile esse formavano un disegno nero bello a vedersi il cielo spazzato dal vento risplendeva sopra le mura tagliate diagonalmente dall'ultimo sole una sera di settembre il vice comandante tenente colonnello nicolosi uscì dal portone del comando zoppicando per un'antica ferita e si appoggiava alla spada quel giorno era di servizio per l'ispezione il gigantesco capitano monti la sua voce rauca diede il comando e tutti insieme assolutamente insieme i soldati presentarono le armi con un potente scroscio metallico si fece un vasto silenzio allora ad uno ad uno i trombettieri delle sette guardie suonarono i ritornelli d'uso erano le famose trombe d'argento della fortezza bastiani con cordoni di seta rossa e oro con appeso un grande stemma la loro voce pura si allargò per il cielo e ne vibrava l'immobile cancellata delle baionette con vaga sonorità di campana i soldati erano fermi come statue i loro volti militarmente chiusi no certo essi non si preparavano ai monotoni turni di guardia con quegli sguardi da eroi certo pareva andavano ad aspettare il nemico l'ultimo squillo restò a lungo nell'aria ripetuto dalle lontane mura le baionette scintillarono ancora un attimo lucide contro il cielo profondo quindi furono inghiottite entro le schiere spegnendosi simultaneamente il colonnello era scomparso dalla finestra risuonarono i passi delle sette guardie che si irradiavano verso le rispettive mura attraverso i labirinti della fortezza un'ora più tardi giovanni drogo era sulla terrazza sommitale della terza ridotta nel punto medesimo donde la sera prima aveva guardato verso il settentrione ieri era venuto a curiosare come un viaggiatore di passaggio adesso era invece il padrone per 24 ore l'intera ridotta e 100 metri di mura dipendevano da lui solo quattro artiglieri sotto di lui nell'interno del fortino badavano ai due cannoni puntati al fondo della valle tre sentinelle si dividevano il ciglione perimetrale della ridotta altre quattro erano scaglionate lungo il muraglione verso destra 25 metri per una il cambio con le sentinelle smontanti era avvenuto con meticolosa precisione sotto gli occhi del sergente maggiore tronc specialista dei regolamenti tronc era alla fortezza da 22 anni e oramai non se ne muoveva più neppure nei periodi di licenza nessuno conosceva come lui ogni angolo della fortificazione spesso gli ufficiali lo incontravano di notte che girava intorno a ispezionare nel buio più nero senza il minimo lume quando lui era di servizio le sentinelle non abbandonavano per un istante il fucile non si appoggiavano ai muri ed evitavano persino di fermarsi perché le soste erano concesse solo in via eccezionale per tutta la notte tronc non dormiva e a passi silenziosi si aggirava per il cammino di ronda facendole trasalire chi va là chi va là chiedevano le sentinelle imbracciando il fucile grotta rispondeva il sergente maggiore gregorio diceva la sentinella praticamente ufficiali e sotto ufficiali in servizio di guardia giravano sul ciglione delle proprie mura senza formalità i soldati li conoscevano bene di vista e lo scambio della parola d'ordine sarebbe parso ridicolo solo con tronc i soldati seguivano alla lettera il regolamento era piccolo e magro con una faccia da vecchietto la testa rasata parlava pochissimo anche con i colleghi e nelle ore libere preferiva in genere starsene solo a studiare musica quella era la sua mania tanto che il maestro della banda il maresciallo espina era forse il suo unico amico possedeva una bella fisarmonica ma non la suonava quasi mai pur essendo leggenda che fosse bravissimo studiava all'armonia e dicevano che avesse scritto diverse marce militari di preciso però non si sapeva niente non c'era pericolo quando era di servizio che si mettesse a fischiettare come era sua abitudine durante il riposo per lo più si aggirava lungo le merlature scrutando il vallone del nord alla ricerca di chissà cosa adesso era di fianco a drogo e gli indicava la mulattiera che lungo precipitosi costoni portava alla ridotta nuova ecco la guardia smontante diceva tronc facendo segno con l'indice destro ma nella penombra del crepuscolo drogo non riuscì a distinguerla il sergente maggiore scosse la testa che cosa c'è domandò drogo c'è che il servizio così non va lo sempre detto è da pazzi rispose tronc ma che cosa è successo il servizio così non va ripete tronc dovrebbero farlo prima il cambio della guardia alla ridotta nuova ma il signor colonnello non vuole giovanni lo guardò meravigliato possibile che tronc si permettesse di criticare il colonnello il signor colonnello continuò il sergente maggiore con profonda serietà e convinzione non certo per rettificare le ultime parole ha perfettamente ragione dal suo punto di vista nessuno però gli ha spiegato il pericolo il pericolo chiese drogo che pericolo poteva mai esserci a trasferirsi dalla fortezza alla ridotta nuova per quel comodo sentiero in località così deserta il pericolo ripete tronc un giorno l'altro succederà qualche cosa con questo buio e cosa si dovrebbe fare chiese drogo per cortesia tutta quella storia lo interessava molto relativamente una volta fece il sergente maggiore ben lieto di poter sfoggiare la sua competenza una volta alla ridotta nuova la guardia si cambiava due ore prima che alla fortezza sempre di giorno anche d'inverno e poi la faccenda delle parole d'ordine era semplificata occorreva quella per entrare nella ridotta e occorreva la parola d'ordine nuova per la giornata di guardia e il ritorno alla fortezza due bastavano quando la guardia smontante era di ritorno alla fortezza la guardia nuova qui non era ancora montata e la parola era ancora valevole già capisco faceva drogo rinunziando a tenerli dietro ma poi raccontava tronc hanno avuto paura è imprudente dicevano lasciare in giro fuori del confine tanti soldati che sanno la parola d'ordine non si sa mai dicevano più facile che tradisca un soldato su 50 che un ufficiale solo e già assenti drogo allora hanno pensato meglio che la parola d'ordine la sappia solo il comandante così adesso escono dalla fortezza tre quarti d'ora prima del cambio della guardia mettiamo oggi il cambio generale si è fatto alle 6 la guardia per la ridotta nuova è partita di qui alle 5 e un quarto ed è arrivata là alle 6 giuste per uscire dalla fortezza di parole d'ordine non ha bisogno perché è un reparto inquadrato per entrare nella ridotta occorreva la parola d'ordine di ieri e questa la sapeva soltanto l'ufficiale fatto il cambio alla ridotta comincia la parola di oggi anche questa la sa soltanto l'ufficiale e così dura 24 ore fino a che non viene la nuova guardia a dare il cambio domani sera poi quando i soldati fanno ritorno potranno arrivare alle 6 e mezzo a tornare indietro la strada è meno faticosa alla fortezza la parola d'ordine è ancora cambiata e così c'è bisogno di una terza parola l'ufficiale ne deve sapere tre quella che serve per l'andata quella che si consuma nel servizio e la terza per il ritorno tutte queste complicazioni perché i soldati mentre sono in strada non sappiano e io dico continuava senza preoccuparsi se drogo gli badasse io dico se la parola d'ordine la sa soltanto l'ufficiale e lui mettiamo si sente male per strada cosa fanno i soldati mica lo potranno obbligare a parlare e non possono neanche tornare da dove sono partiti perché intanto anche là la parola è cambiata a questo non ci pensano e poi loro che vogliono la segretezza non si accorgono che in questo modo corrono tre parole invece di due e che la terza quella per rientrare il giorno dopo alla fortezza viene messa in giro più di 24 ore prima qualsiasi cosa succeda sono obbligati a mantenerla se no la guardia non può più rientrare ma obiettò drogo alla porta li riconosceranno bene no vedrebbero bene che è la guardia smontante tronc guardò il tenente con un certo tono di superiorità questo è impossibile signor tenente c'è la regola alla fortezza dalla parte del nord senza la parola d'ordine nessuno può entrare non importa chi sia ma allora disse drogo irritato per quell'assurdo rigore allora non sarebbe più semplice fare una parola d'ordine speciale per la ridotta nuova fanno il cambio prima e la parola per rientrare viene insegnata soltanto all'ufficiale così i soldati non sanno niente si capisce fece il sotto ufficiale quasi trionfante come se avesse aspettato quell'obiezione al varco sarebbe forse la soluzione migliore ma bisognerebbe cambiare il regolamento occorrerebbe una legge il regolamento dice intonò la voce a cadenza didascalica la parola d'ordine dura 24 ore da un cambio della guardia al successivo una parola d'ordine vige nella fortezza e sue dipendenze dice proprio sue dipendenze parla chiaro non c'è da fare nessun trucco ma una volta fece drogo che da principio non era stato attento il cambio alla ridotta nuova si faceva prima sicuro esclamò tronc poi si corresse signor sì solo da due anni in qua c'è questa storia prima era molto meglio il sotto ufficiale tacque drogo lo guardava spaventato dopo 22 anni di fortezza che cosa era rimasto di quel soldato si ricordava ancora tronc che esistevano in qualche parte del mondo milioni di uomini simili a lui che non vestivano l'uniforme e giravano liberi per la città e la notte potevano a loro piacimento mettersi a letto o andare all'osteria o a teatro no a guardarlo lo si capiva bene degli altri uomini tronc si era dimenticato per lui non esisteva più che la fortezza con i suoi odiosi regolamenti tronc non ricordava più come suonassero le dolci voci delle ragazze né come fossero fatti i giardini nei fiumi né altri alberi se non i magri rari cespugli sparsi nei dintorni della fortezza tronc guardava sì verso il settentrione ma non con l'animo di drogo lui fissava il sentiero per la ridotta nuova il fosso e la controscarpa perlustrava le possibili vie d'accesso ma non le selvagge rupi né quel triangolo di pianura misteriosa e nemmeno le nubi bianche che navigavano per il cielo già quasi notturno così mentre veniva il buio si impadroniva nuovamente di drogo il desiderio di fuggire perché non se n'era andato subito si rimproverava perché aveva ceduto alle melliflue diplomazie del matti ora doveva aspettare che si consumassero quattro mesi cento venti lunghissimi giorni metà dei quali di guardia alle mura gli parve di trovarsi fra uomini di altra razza in una terra straniera mondo duro ed ingrato si guardò attorno riconobbe tronc che immobile osservava le sentinelle capitolo sesto già era scesa la piena notte drogo era seduto nella nuda camera della ridotta e si era fatto portare carta inchiostro e penna per scrivere cara mamma cominciò a scrivere e immediatamente si sentì come quando era bambino solo al lume di una lanterna mentre nessuno lo vedeva nel cuore della fortezza lui ignota lontano dalla casa da tutte le cose familiari e buone gli pareva una consolazione poter almeno aprire completamente il suo cuore certo con gli altri con i colleghi ufficiali doveva farsi vedere uomo doveva ridere con loro e raccontare storie spavalde di militari e di donne a chi altri se non alla mamma poteva dire la verità e la verità di drogo quella sera non era una verità da bravo soldato non era probabilmente degna dell'austera fortezza i compagni ne avrebbero riso la verità era la stanchezza del viaggio l'oppressione delle tetre mura il sentirsi completamente solo sono arrivato sfinito dopo due giorni di strada questo le avrebbe scritto e arrivato ho saputo che se volevo potevo tornare in città la fortezza è malinconica non ci sono paesi vicini non c'è nessun divertimento e nessuna allegria questo le avrebbe scritto ma drogo si ricordò della mamma a quell'ora e la pensava proprio a lui e si consolava l'idea che il figlio se la passasse piacevolmente con simpatici amici magari chissà in gentile compagnia lei certo lo credeva soddisfatto e sereno cara mamma la sua mano scrisse sono arrivato l'altro ieri dopo un ottimo viaggio la fortezza è grandiosa o farle capire lo squallore di quelle mura quell'aria vaga di punizione ed esilio quegli uomini stranieri ed assurdi invece gli ufficiali qui mi hanno accolto affettuosamente scriveva anche l'aiutante maggiore in prima è stato molto gentile e mi ha lasciato completamente libero di tornare in città se volevo eppure io forse in quel momento la mamma girava nella sua stanza abbandonata apriva un cassetto metteva in ordine certi suoi vecchi vestiti i libri lo scrittoio li aveva già riordinati tante volte ma le pareva così di ritrovare un po la viva presenza di lui come se egli dovesse rincasare al solito prima di pranzo gli pareva di udirlo il noto rumore dei suoi piccoli passi irrequieti che si sarebbero detti sempre in ansia per qualcuno come avrebbe avuto il cuore di amareggiarla se le fosse stato vicino nella stessa stanza raccolti sotto il familiare lume allora sì giovanni le avrebbe detto tutto e lei non avrebbe fatto in tempo a contristarsi perché lui le era accanto e il brutto era ormai passato ma così da lontano per lettera seduto accanto a lei dinanzi al camino nella rassicurante tranquillità dell'antica casa allora sì le avrebbe parlato del maggiore matti e delle sue insidiose blandizie delle manie di tronc le avrebbe detto come stupidamente avesse accettato di rimanere quattro mesi e probabilmente entrambi ci avrebbero riso sopra ma come fare così da lontano eppure io drogo scriveva ho creduto bene per me e per la carriera restare qualche tempo quassù la compagnia poi è molto simpatica il servizio facile e non faticoso e la sua stanza il rumore della cisterna l'incontro col capitano ortizie la desolata terra del nord non aveva da spiegarle i ferrei regolamenti della guardia la nuda ridotta in cui si trovava no neppure con la mamma poteva essere sincero nemmeno a lei confessare gli oscuri timori che non gli lasciavano pace nella sua casa in città gli orologi uno dopo l'altro con voci diverse adesso suonavano le dieci ai rintocchi tintinnavano lievemente i bicchieri nelle credenze dalla cucina aggiungeva una eco di risata dall'altra parte della via un canto di pianoforte attraverso una strettissima finestretta quasi una feritoia dal posto dove sedeva drogo poteva gettare uno sguardo verso la valle del nord quella terra triste ma adesso non si vedeva che buio la penna scricchiolava un poco benché trionfasse la notte il vento cominciava a soffiare fra le merlature portando ignoti i messaggi benché dentro alla ridotta si ammucchiassero dense le tenebre e l'aria fosse umida e ingrata in complesso io sono molto contento e sto bene scriveva giovanni drogo dalle nove di sera all'alba ogni mezz'ora una campana suonava nella quarta ridotta all'estremità destra del valico dove finivano le mura suonava una piccola campana e subito l'ultima sentinella chiamava il compagno più vicino da questa al soldato seguente e poi avanti fino all'estremità opposta delle mura di ridotta in ridotta attraverso il forte ancora lungo la bastionata il richiamo correva nella notte allerta allerta le sentinelle non mettevano alcun entusiasmo nel grido lo ripetevano meccanicamente con strani timbri di voce disteso sul lettuccio senza essersi spogliato giovanni drogo invaso da un crescente torpore sentiva ad intervalli sopraggiungere da lontano quel grido a e a e a e gli arrivava soltanto si faceva sempre più forte gli passava sopra con la massima intensità si allontanava dall'altra parte calando a poco a poco nel nulla dopo due minuti eccolo di ritorno rimandato come controprova dal primo fortino di sinistra drogo lo udiva ancora avvicinarsi a passi lenti ed eguali a e a e a e solo quando gli era sopra ripetuto dalle proprie sentinelle riusciva a distinguere la parola ma presto l'allerta si confondeva ancora in una specie di lamento che moriva finalmente all'ultima sentinella contro il piedestallo delle rupi giovanni udì arrivare il richiamo quattro volte e quattro volte ridiscendere il ciglione del forte fino al punto donde era partito alla quinta giunse nella coscienza di drogo solo una vaga risonanza che gli provocò un breve sussulto gli venne in mente che non era bello per l'ufficiale di guardia a dormire il regolamento lo permetteva a condizione che non ci si spogliasse ma quasi tutti gli ufficiali giovani della fortezza per una forma di elegante alterigia restavano svegli tutta la notte leggendo fumando sigari facendosi anche abusivamente visita l'un l'altro e giocando a carte tronc a cui prima giovanni aveva chiesto informazioni gli aveva fatto capire che era buona norma stare sveglio disteso sul lettuccio fuori dell'alone del lume a petrolio mentre fantasticava sulla propria vita giovanni invece fu preso improvvisamente dal sonno e intanto proprio quella notte o se l'avesse saputo forse non avrebbe avuto voglia di dormire proprio quella notte cominciava per lui l'irreparabile fuga del tempo fino allora egli era avanzato per la spensierata età della prima giovinezza una strada che da bambini sembra infinita dove gli anni scorrono lenti e con passo lieve così che nessuno nota la loro partenza si cammina placidamente guardandosi con curiosità attorno non c'è proprio bisogno di affrettarsi nessuno preme di dietro e nessuno ci aspetta anche i compagni procedono senza pensieri fermandosi spesso a scherzare dalle case sulle porte la gente grande saluta benigna e facendo indicando l'orizzonte con sorrisi di intesa così il cuore comincia a battere per eroici e teneri desideri si assapora la vigilia delle cose meravigliose che si attendono più avanti ancora non si vedono no ma è certo assolutamente certo che un giorno ci arriveremo ancora molto no basta attraversare quel fiume laggiù in fondo oltrepassare quelle verdi colline o non si è per caso già arrivati non sono forse questi alberi questi prati questa bianca casa quello che cercavamo per qualche istante si ha l'impressione di sì e ci si vorrebbe fermare poi si sente dire che il meglio è più avanti e si riprende senza affanno la strada così si continua il cammino in un'attesa fiduciosa e le giornate sono lunghe e tranquille il sole risplende alto nel cielo e sembra non abbia mai voglia di calare al tramonto ma a un certo punto quasi istintivamente ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato sprangato alle spalle nostre chiudendo la via del ritorno allora si sente che qualche cosa è cambiato il sole non sembra più immobile ma si sposta rapidamente ahimè non si fa tempo a fissarlo che già precipita verso il confine dell'orizzonte ci si accorge che le nubi non ristagnano più nei golfi azzurri del cielo ma fuggono accavallandosi l'una sull'altra tanto è il loro affanno si capisce che il tempo passa e che la strada un giorno dovrà pur finire chiudono a un certo punto alle nostre spalle un pesante cancello lo rinserrano con velocità fulminea e non si fa tempo a tornare ma giovanni drogo in quel momento dormiva ignaro e sorrideva nel sonno come fanno i bambini passeranno dei giorni prima che drogo capisca ciò che è successo sarà allora come un risveglio si guarderà attorno incredulo poi sentirà un trepestio di passi sopraggiungenti alle spalle vedrà la gente risvegliatasi prima di lui che corre affannosa e lo sorpassa per arrivare in anticipo sentirà il battito del tempo scandire avidamente la vita non più alle finestre si affacceranno ridenti figure ma volti immobili e indifferenti e se lui domanderà quanta strada rimane loro faranno sì ancora cenno all'orizzonte ma senza alcuna bontà e letizia intanto i compagni si perderanno di vista qualcuno rimane indietro sfinito un altro è fuggito innanzi oramai non è più che un minuscolo punto all'orizzonte dietro quel fiume dirà la gente ancora dieci chilometri e sarai arrivato invece non è mai finita le giornate si fanno sempre più brevi i compagni di viaggio più radi alle finestre stanno apatiche figure pallide che scuotono il capo fino a che drogo rimarrà completamente solo e all'orizzonte ecco la striscia di uno smisurato mare immobile colore di piombo oramai sarà stanco le case lungo la via avranno quasi tutte le finestre chiuse e le rare persone visibili gli risponderanno con un gesto sconsolato il buono era indietro molto indietro e lui ci è passato davanti senza sapere o è troppo tardi ormai per ritornare dietro a lui si amplia il rombo della moltitudine che lo segue sospinta dalla stessa illusione ma ancora invisibile sulla bianca strada deserta giovanni drogo adesso dorme nell'interno della terza ridotta egli sogna e sorride per le ultime volte vengono a lui nella notte le dolci immagini di un mondo completamente felice guai se potesse vedere se stesso come sarà un giorno là dove la strada finisce fermo sulla riva del mare di piombo sotto un cielo grigio e uniforme e intorno né una casa né un uomo né un albero neanche un filo d'erba tutto così da immemorabile tempo capitolo settimo giunse finalmente dalla città la cassa con i vestiti del tenente drogo fra l'altro c'era un mantello nuovissimo di straordinaria eleganza drogo lo indossò e si guardò pezzo a pezzo nel piccolo specchio della propria stanza gli parve quello un vivo collegamento con il suo mondo pensò con soddisfazione che tutti lo avrebbero guardato tanto splendida era la stoffa fiero il panneggiamento che ne risultava pensò che non doveva sciuparlo per il servizio di fortezza nelle notti di guardia fra le umide mura era anche di malaugurio metterlo lassù per la prima volta quasi ad ammettere che egli non avrebbe avuto occasioni migliori pure gli dispiaceva di non farlo vedere in giro e benché non fosse freddo volle indossarlo almeno per andare fino al sarto del reggimento da cui ne avrebbe comperato un altro di tipo comune lasciò quindi la camera e si avviò giù per le scale osservando dove la luce lo permetteva l'eleganza della propria ombra tuttavia man mano che gli scendeva nel cuore della fortezza il mantello sembrava perdere in qualche modo il suo primo splendore drogo inoltre si accorse che non riusciva a portarlo con naturalezza gli pareva una cosa strana da dare nell'occhio ebbe perciò piacere che le scale e i corridoi fossero quasi deserti un capitano che finalmente incontrò rispose al suo saluto senza uno sguardo in più del necessario neppure i rari soldati voltavano gli occhi a osservarlo scese per un'angusta scaletta chiocciola tagliata nel corpo di una muraglia e i suoi passi risuonavano di sopra e di sotto come se ci fosse altra gente le preziose falde del mantello battevano oscillando sulle bianche muffe dei muri drogo giunse così ai sotterranei il laboratorio del sarto prosdocimo era appunto allogato in una cantina uno spiraglio di luce scendeva nelle giornate buone da una piccola finestretta al livello del suolo ma quella sera avevano già acceso i lumi buonasera signor tenente disse prosdocimo il sarto regimentale appena lo vide entrare nello stanzone solo alcuni piccoli tratti erano illuminati un tavolo dove un vecchietto scriveva il banco dove lavoravano tre giovani aiutanti tutto attorno pendevano flosci con sinistro abbandono da impiccati decine e decine di uniformi pastrani e mantelli buonasera rispose drogo vorrei un mantello un mantello da non spendere molto vorrei basta che duri quattro mesi mi lasci vedere disse il sarto con un sorriso di curiosità diffidente prendendo un lembo del mantello di drogo e traendolo verso la luce egli era di grado maresciallo ma la sua qualità di sarto pareva concedergli di diritto una certa ironica familiarità coi superiori bella stoffa bella l'avrà pagata un occhio immagino laggiù in città non scherzano diede un'occhiata complessiva da uomo del mestiere scosse il capo facendo tremolare le guance piene sanguigne peccato però peccato che cosa peccato che il collo sia così basso è poco militare si usa così adesso fece drogo con superiorità la moda vorrà il collo basso disse il sarto ma per noi militari la moda non c'entra la moda ha da essere il regolamento e il regolamento dice il collo del mantello stretto al collo foggiato a cintura alto centimetri sette lei forse crede signor tenente che io sia un sartucolo da poco a vedermi in questo buco perché fece drogo tutt'altro anzi lei probabilmente crede che io sia un sartucolo da poco molti ufficiali invece mi stimano anche in città e ufficiali di riguardo io sono quassù in via assolutamente provvisoria e scandì le due ultime parole come premessa di grande importanza drogo non sapeva che cosa dire da un giorno all'altro io aspetto di partire continuava prosdocimo se non fosse per il signor colonnello che non vuole lasciarmi andare ma che cosa avete voi altri da ridere nella penombra infatti si era sentito il riso soffocato dei tre aiutanti adesso avevano chinato la fronte esageratamente intenti al lavoro il vecchietto continuava a scrivere facendo parte a se stesso che cosa c'era da ridere ripete prosdocimo siete dei tipi un po troppo svelti voi un giorno l'altro ve ne accorgerete già disse drogo che cosa c'era da ridere sono degli stupidi disse il sarto è meglio non badarci in quel momento si udì un passo scendere dalle scale e comparve un soldato prosdocimo era chiamato di sopra dal maresciallo del magazzino vestiario mi scusi signor tenente fece il sarto è una faccenda di servizio fra due minuti sono di ritorno e seguì il soldato di sopra drogo si sedette preparandosi ad aspettare i tre aiutanti partito il padrone avevano interrotto il lavoro il vecchietto finalmente levò gli occhi dalle sue carte si alzò in piedi si avvicinò zoppicando a giovanni l'ha sentito gli chiese con strano accento facendo un segno ad indicare il sarto che era uscito l'ha sentito sa signor tenente da quanti anni è qui alla fortezza ma non saprei quindici anni signor tenente quindici maledettissimi anni e continuo a ripetere la solita storia sono qui in via provvisoria da un giorno all'altro aspetto qualcuno borbottò al tavolo degli aiutanti doveva essere quello il loro abituale oggetto di riso il vecchietto non ci vadò nemmeno e invece non si muoverà mai disse lui il signor colonnello comandante e molti altri resteranno qui fino a crepare è una specie di malattia stia attento lei signor tenente che è nuovo lei che è appena arrivato stia attento finché è in tempo stare attento a che cosa ad andarsene appena può a non prendere la loro mania drogo disse io sono qui per quattro mesi soltanto non ho la minima intenzione di rimanere il vecchietto disse stia attento lo stesso signor tenente ha cominciato il signor colonnello filimore si preparano grandi eventi ha cominciato a dire me lo ricordo benissimo saranno 18 anni proprio eventi diceva questa è la sua frase si è messo in mente che la fortezza è importantissima molto più importante di tutte le altre che in città non capiscono niente che deve succedere qualcosa drogo sorrise che succeda qualcosa vuol dire una guerra chi lo sa può darsi anche una guerra una guerra dalla parte del deserto dalla parte del deserto probabilmente confermò il vecchietto ma chi chi dovrebbe venire cosa vuole che io ne sappia non verrà nessuno si capisce ma il signor colonnello comandante ha studiato le carte dice che ci sono ancora i tartari dice un resto dell'antico esercito che scorrazza su e giù nella penombra si udì un ghignare ebete dei tre aiutanti e sono ancora qui che aspettano proseguì il vecchietto guardi il signor colonnello il signor capitano stizione il signor capitano ortiz il signor tenente colonnello ogni anno ha da succedere qualcosa sempre così fino a che li metteranno a riposo si interruppe piegò la testa da un lato come per ascoltare mi pareva di sentire dei passi disse ma non si udiva nessuno non sento niente fece drogo anche prosdocimo disse il vecchietto è semplice maresciallo sarto regimentale ma si è messo con loro anche lui aspetta sono già 15 anni ma lei non è persuaso signor tenente lo vedo lei sta zitto e pensa che sono tutte storie aggiunse quasi supplichevole sti attento le dico lei si lascerà suggestionare anche lei finirà per restare basta guardarlo negli occhi drogo taceva gli pareva indegno di un ufficiale confidarsi con un così povero uomo ma lei disse e lei cosa fa allora io fece il vecchietto io sono suo fratello sto qui a lavorare con lui suo fratello suo fratello maggiore già il vecchietto sorrise fratello maggiore anch'io ero militare una volta poi mi sono rotto una gamba sono ridotto a questo nel silenzio sotterraneo drogo allora sentì i colpi del proprio cuore che si era messo a battere forte dunque anche il vecchietto rintanato nella cantina a fare i conti anche quell'oscura e umile creatura aspettava un destino eroico giovanni lo fissava negli occhi e l'altro scosse un poco la testa con amara mestizia come a significare di sì che non c'era proprio rimedio così siamo fatti pareva dire e mai più guariremo forse perché in qualche parte delle scale era stata aperta una porta adesso si udivano filtrate dai muri lontane voci umane di indeterminabile origine ogni tanto cessavano lasciando un vuoto poco dopo riaffioravano ancora andavano e venivano come lento respiro della fortezza ora drogo finalmente capiva e gli fissava le ombre multiple delle uniformi appese che tremolavano all'oscillare dei lumi e pensò che in quel momento preciso il colonnello nel segreto del suo ufficio aveva aperto la finestra verso il nord era certo in un'ora così triste come quella per il buio e l'autunno il comandante della fortezza guardava verso il settentrione verso le nere voragini della valle dal deserto del nord doveva aggiungere la loro fortuna l'avventura l'ora miracolosa che almeno una volta tocca a ciascuno per questa eventualità vaga che pareva farsi sempre più incerta col tempo uomini fatti consumavano lassù la migliore parte della vita non si erano adattati alla esistenza comune alle gioie della solita gente al medio destino fianco a fianco vivevano con la uguale speranza senza mai farne parola perché non se ne rendevano conto o semplicemente perché erano soldati col geloso pudore della propria anima forse anche tronc probabilmente tronc inseguiva gli articoli del regolamento la disciplina matematica l'orgoglio della responsabilità scrupolosa e si illudeva che ciò gli bastasse pure se gli avessero detto sempre così fino che vivi tutto uguale fino in fondo anche lui si sarebbe svegliato impossibile avrebbe detto qualche cosa di diverso dovrà pur venire qualche cosa di veramente degno da poter dire adesso anche se è finita pazienza drogo aveva capito il loro facile segreto e con sollievo pensò di esserne fuori spettatore incontaminato fra quattro mesi grazie a dio egli li avrebbe lasciati per sempre gli oscuri fascini della vecchia bicocca si erano ridicolmente dissolti così pensava ma perché il vecchietto continuava a fissarlo e con quell'espressione ambigua perché drogo sentiva il desiderio di fischiettare un poco di bere vino di uscire all'aperto forse per dimostrare a se stesso di essere veramente libero e tranquillo capitolo ottavo ecco i nuovi amici di drogo tenenti carlo morel pietro angustina francesco grotta max lagorio essi sono seduti con lui alla mensa a quest'ora vuota solo un famiglio rimane appoggiato allo stipite di una lontana porta e ritratti degli antichi colonnelli allineati sui muri attorno immersi nella penombra otto bottiglie stanno nere sulla tovaglia nel disordine del pranzo finito sono tutti in qualche modo eccitati un po dal vino un po dalla notte e quando le loro voci tacciano si ode fuori la pioggia festeggiano il conte max lagorio che all'indomani parte dopo due anni di fortezza lagorio disse angustina se viene anche tu ti aspetto lo disse nel suo solito tono di scherzo ma si capiva che era vero anche angustina aveva finito i due anni di servizio ma non voleva partire angustina era pallido e sedeva con la sua perenne aria di distacco come se non si interessasse affatto di loro fosse lì per un puro caso angustina ripete lagorio quasi con un grido ai confini dell'ubriachezza se viene anche tu ti aspetto sono disposto ad aspettare tre giorni il tenente angustina non rispose facendo un lieve sorriso di sopportazione la sua uniforme azzurra stinta dal sole spiccava fra le altre per una indefinibile trasandata eleganza lagorio si rivolse agli altri a morel a grotta a drogo diteglielo anche voi e pose la destra sulla spalla di angustina gli farebbe bene venire in città mi farebbe bene chiese angustina come incuriosito in città staresti meglio ecco tutti del resto io credo io sto benissimo fece asciutto angustina non ho bisogno di cure non ho detto che tu abbia bisogno di cure ho detto che ti farebbe bene così disse lagorio e si udì fuori nel cortile cadere la pioggia angustina si lisciava con due dita i baffetti era annoiato si vedeva lagorio riprese a tua mamma i tuoi tu non pensi immagina quando tua mamma mia mamma saprà adattarsi rispose angustina con amaro sottinteso lagorio capì e cambiò discorso di angustina ci pensi capitare dopodomani dalla claudina sono due anni che non ti vede la claudina fece angustina svogliatamente ma che claudina io non mi ricordo già non ti ricordi con te non si può parlare di niente stasera ecco com'è non sarà mica un mistero no ti si vedeva insieme tutti i giorni ah disse angustina per mostrarsi gentile adesso mi ricordo già la claudina figurati non si ricorderà nemmeno che esisto e va là sappiamo bene che vanno matte tutte per te non fare il modesto adesso esclamò grotta e angustina lo fissò senza battere ciglio colpito si vedeva da tanta piattezza tacquero fuori nella notte sotto la pioggia autunnale camminavano le sentinelle l'acqua scrosciava sulle terrazze gorgogliava nelle gronde colava giù per le mura fuori era notte fonda e angustina ebbe un piccolo colpo di tosse pareva strano che da un giovane così raffinato potesse uscire un suono tanto sgradevole ma egli tossiva con una sapiente misura abbassando ogni volta la testa quasi ad indicare che lui non poteva impedirlo in fondo era una cosa non sua che per correttezza gli toccava subire così trasformava la tosse in una specie di vezzo capriccioso degno di essere imitato pure si era fatto un silenzio penoso che drogo sentì il bisogno di spezzare di lagorio domandò a che ora parti domani verso le dieci credo volevo partire prima ma ho ancora da congedarmi dal colonnello il colonnello si alza alle cinque estate inverno alle cinque non ti fa certo perdere tempo lagorio rise ma son ben io che non mi alzo alle cinque almeno per l'ultima mattina voglio fare i miei comodi non mi corre dietro nessuno per dopo domani sei arrivato allora notò morel con invidia lagorio disse mi par fino e impossibile vi giuro che cosa è impossibile di essere in città fra due giorni e per sempre anche angustina era pallido ora non si lisciava più i baffetti ma fissava dinnanzi a sé la penombra gravava oramai nella sala il sentimento della notte quando le paure escono dai decrepiti muri e l'infelicità si fa dolce quando l'anima batte orgogliosa le ali sopra l'umanità addormentata gli occhi vitrei dei colonnelli dai grandi ritratti esprimevano eroici presagi e fuori sempre la pioggia ti immagini fece lagorio senza misericordia ad angustina dopo domani sera a quest'ora io sarò magari da consalvi gran mondo musica belle donne diceva ripetendo un'antica ceglia bel gusto rispose con sprezzo angustina oppure continuava lagorio con le migliori intenzioni unicamente per persuadere l'amico ecco forse è meglio andrò dai tron ai tuoi zii c'è gente simpatica e si gioca da signori direbbe giacomo ha un bel gusto disse angustina comunque sia fece lagorio dopo domani io sarò a divertirmi e tu sarai di servizio io sarò a spasso per la città e rideva l'idea e a te arriverà il capitano di ispezione novità zero la sentinella martini si è sentita male alle ore due il sergente ti sveglierà signor tenente è l'ora dell'ispezione ti sveglierà alle ore due puoi giurarlo e alla stessa identica ora positivamente io sarò in letto con la rosaria erano le fatue inconsce crudeltà di lagorio a cui tutti erano abituati ma dietro le sue parole comparve ai compagni l'immagine della lontana città con i suoi palazzi e le chiese immense le aeree cupole i romantici viali lungo il fiume a quell'ora pensavano doveva esserci una sottile nebbia e i fanali davano una tenue luce giallastra a quell'ora nere coppie per le vie solitarie grida di cocchieri d'innanzi alle vetrate accese dell'opera echi di violini e di risa voci di donna dai tetri portali delle ricche case finestre illuminate a incredibili altezze fra il labirinto dei tetti l'affascinante città con i loro sogni di giovinezza le sue ancora sconosciute avventure tutti ora guardavano senza farsi accorgere la faccia di angustina greve di stanchezza inconfessata non erano lì capivano per festeggiare lagorio in partenza in verità essi salutavano angustina perché lui solo sarebbe rimasto ad uno ad uno dopo lagorio venuto il turno anche gli altri se ne sarebbero andati grotta morel e prima ancora giovanni drogo che aveva appena quattro mesi da fare angustina invece sarebbe rimasto non riuscivano a capire il perché ma lo sapevano bene e benché sentissero oscuramente che anche questa volta egli obbediva al suo ambizioso stile di vita non erano più capaci di invidiarlo pareva in fondo una assurda mania e perché angustina maledetto snob adesso ancora sorride perché malato com'è non corre a fare i bagagli non si prepara la partenza e invece fissa dinnanzi a sé la penombra a che cosa pensa quale segreto orgoglio lo trattiene alla fortezza anche lui dunque guardalo lagorio tu che gli sei amico guardalo bene finché sei in tempo fa che il suo volto resti nella tua mente così com'è questa sera il naso sottile gli sguardi atoni quell'ingrato sorriso forse un giorno capirai perché non ti ha voluto seguire saprai ciò che era chiuso dietro la sua immobile fronte lagorio partì il mattino dopo i due suoi cavalli erano ad aspettarlo con l'attendente dinnanzi alla porta della fortezza il cielo era coperto e non pioveva lagorio aveva una faccia contenta era uscito dalla sua camera senza darci neanche un'occhiata ne si voltò indietro quando fu all'aperto per guardare la fortezza le muraglie stavano sopra di lui cupe ed arcigne la sentinella alla porta era immobile non un'anima viva sulla vasta spianata da un casottino addossato al forte uscivano ritmici suoni di martello angustina era sceso a salutare il compagno fece una carezza al cavallo sempre una bella bestia disse lagorio se ne andava scendeva alla loro città alla vita facile e lieta lui invece restava lui guardava con occhi impenetrabili il compagno che si affaccendava intorno alle bestie e stentava a sorridere mi pare fino impossibile di partire diceva lagorio questa fortezza era per me un'ossessione va a salutare i miei quando arrivi fece angustina senza badargli di alla mamma che io sto bene sta tranquillo rispose lagorio e dopo una pausa aggiunse mi è dispiaciuto ieri sera sai noi siamo proprio diversi quello che tu pensi in fondo io non l'ho mai capito sembrano manie le tue io non so ma forse sei tu che hai ragione non ci pensavo nemmeno fece angustina e appoggiando la destra a un fianco del cavallo e guardando a terra figurati se mi sono arrabbiato erano due uomini diversi che amavano diverse cose distanti per intelligenza e cultura ci si meravigliava persino di vederli sempre insieme tanta era la superiorità di angustina pure erano amici fra tutti quanti lagorio era il solo che istintivamente lo capisse solo lui sentiva pena per il compagno quasi si vergognava di partire dinnanzi a lui come di una brutta ostentazione e non sapeva decidersi se vedi la claudina disse ancora angustina con voce immobile salutala anzi no è meglio che tu non dica niente oh ma sarà lei a domandarmi se la vedo lo sa bene che sei qui angustina tacque allora disse lagorio che aveva finito di sistemare con l'attendente la sacca da viaggio forse è meglio che vada se no faccio tardi ti saluto strinse la mano all'amico poi con elegante mossa saltò in sella addio lagorio esclamò angustina buon viaggio diritto in sella lagorio lo guardava non era molto intelligente ma un'oscura voce gli diceva che forse non si sarebbero più riveduti un colpo di speroni e il cavallo si mosse fu allora che angustina alzò leggermente la mano destra per fare un cenno come per richiamare il compagno che si fermasse ancora un momento aveva da dirgli un'ultima cosa lagorio vide il gesto con la coda dell'occhio e si fermò a una ventina di metri che cosa c'è domandò volevi qualcosa ma angustina abbassò la mano riprendendo l'indifferente posa di prima niente niente rispose perché ah mi pareva disse lagorio perplesso e si allontanò attraverso la spianata dondolando sulla sella capitolo nono le terrazze della fortezza erano bianche così come la valle del sud e il deserto del settentrione la neve copriva interamente gli spalti aveva steso una fragile cornice lungo le merlature precipitava con piccoli tonfi dalle gronde si staccava ogni tanto dal fianco dei precipizi per nessuna comprensibile ragione e orribili masse rimbombavano nei canaloni fumando non era la prima neve ma la terza o la quarta e stava ad indicare che parecchi giorni erano passati mi sembra ieri che sono arrivato alla fortezza diceva drogo ed era proprio così sembrava ieri eppure il tempo si era consumato lo stesso con il suo immobile ritmo identico per tutti gli uomini né più lento per chi è felice né più veloce per gli sventurati né ad agio né presto altri tre mesi erano passati natale si era già dissolto nella lontananza anche il nuovo anno era venuto portando per qualche minuto agli uomini strane speranze giovanni drogo già si preparava a partire occorreva ancora la formalità della visita medica come gli aveva promesso il maggiore matti e poi sarebbe potuto andare egli continuava a ripetersi che questo era un avvenimento lieto che in città lo aspettava una vita facile divertente e forse felice eppure non era contento il mattino del 10 gennaio entrò nell'ufficio del dottore all'ultimo piano della fortezza il medico si chiamava ferdinando rovina aveva più di 50 anni un volto floscio e intelligente una rassegnata stanchezza e non portava la divisa ma una lunga giacca scura da magistrato era seduto al suo tavolo con vari libri e carte davanti però drogo entrando quasi all'improvviso capì subito che non stava facendo niente sedeva immobile pensando a chissà cosa la finestra dava sul cortile e di qui saliva un suono di passi cadenzati perché era già sera e cominciava il cambio della guardia dalla finestra si scorgeva un pezzo del muro di fronte e il cielo straordinariamente sereno i due si salutarono e giovanni si accorse presto che il medico era perfettamente al corrente del suo caso i corvi nidificano e le rondini se ne vanno disse rovina scherzando e trasse fuori da un cassetto una carta con un formulario stampato lei forse non sa dottore che io sono venuto qui per uno sbaglio rispose drogo tutti caro figliolo sono venuti quassù per uno sbaglio fece il medico con patetica allusione chi più chi meno anche quelli che ci sono rimasti drogo non capiva bene e si accontentò di sorridere o non la rimprovero fate bene voi giovani a non ammuffire quassù continuò il rovina giù in città ci sono ben altre occasioni ci penso anch'io qualche volta se potessi perché chiese drogo non potrebbe farsi trasferire il dottore agitò le mani come se avesse udito un'enormità farmi trasferire dopo 25 anni che sono quassù troppo tardi figliolo bisognava pensarci prima forse avrebbe desiderato che drogo lo contraddicesse ancora ma siccome il tenente tacque entrò in argomento invitò giovanni a sedere si fece dare da lui nome e cognome che scrisse al posto giusto sul modulo regolamentare bene conchiuse lei soffre di qualche disturbo al sistema cardiaco vero il suo organismo non resiste a questa altitudine vero facciamo così facciamo pure così assentì drogo lei è il migliore arbitro di queste cose prescriviamo anche una licenza di convalescenza già che ci siamo fece il medico ammiccando la ringrazio disse drogo ma non vorrei esagerare come vuole niente licenza io alla vostra età non avevo di simili scrupoli giovanni invece di sedersi si era avvicinato alla finestra e guardava ogni tanto in giù ai soldati schierati sulla bianca neve il sole era appena tramontato fra le muraglie si era diffusa una penombra azzurra più della metà di voi altri dopo tre quattro mesi vuole andarsene andava dicendo con una certa tristezza il dottore anche lui oramai avvolto dalle ombre tanto che non si capiva come ci vedesse a scrivere anch'io se potessi tornare indietro farei come voi ma dopo tutto è un peccato drogo ascoltava senza interesse intento come era a guardare dalla finestra e allora gli parve di vedere le mura giallastre del cortile levarsi altissime verso il cielo di cristallo e sopra di esse al di là ancora più alte solitarie torri muraglioni a sghembo coronati di neve aerei spalti e fortini che non aveva mai prima notato una luce chiara dall'occidente ancora li illuminava ed essi misteriosamente così splendevano di una impenetrabile vita mai drogo si era accorto che la fosse così complicata ed immensa vide una finestra o una feritoia aperta sulla valle a quasi incredibile altezza lassù dovevano esserci uomini che egli non conosceva forse anche qualche ufficiale come lui del quale avrebbe potuto essere amico vide ombre geometriche di abissi fra bastione e bastione vide esili ponti sospesi fra i tetti strani portoni sprangati a filo delle muraglie antichi spiombatoi bloccati lunghi spigoli incurvati dagli anni vide fra lanterne e fiaccole sul fondo livido del cortile soldati grandissimi e fieri sguainare le baionette sul chiaro della neve formavano file nere ed immobili come di ferro essi erano bellissimi e stavano impietriti mentre una tromba cominciava a suonare gli squilli si allargavano per l'aria vivi e lucenti penetravano diritti nel cuore ad uno ad uno ve ne andate tutti mormorava rovina nella penombra finiremo per restare soltanto noi vecchi quest'anno la tromba suonava giù nel cortile suono puro di voce umana e metallo palpitò ancora con slancio guerriero tacendo lasciò inesprimibile incanto persino nell'ufficio del medico il silenzio divenne tale che si poteva udire un lungo passo scricchiolare sulla neve gelata il colonnello in persona era sceso a salutare la guardia tre squilli di estrema bellezza tagliarono il cielo chi c'è di voi altri continuava a recriminare il dottore il tenente angustina l'unico anche morel scommetto quest'altro anno dovrà scendere in città a farsi curare anche lui scommetto finirà per ammalarsi morel drogo non poteva evitare di rispondere per far vedere che ascoltava morel ammalato chiese non avendo afferrato le ultime parole o no fece il dottore una specie di metafora pur attraverso la finestra chiusa si udivano i passi vitrei del colonnello nel crepuscolo le baionette facevano allineate tante strisce d'argento da lontanze improbabili giungevano echi di trombe il suono di prima forse rimandato dall'intrico delle muraglie il dottore taceva poi si alzò disse ecco qua il certificato adesso vado a farlo firmare dal signor comandante piegò il foglio e lo mise in una cartella staccò dall'attaccapanni il pastrano e un berrettone di pelo viene che lei tenente chiese che cosa sta mai guardando le guardie montanti avevano deposto le armi e si muovevano ad una ad una verso le varie parti della fortezza sulla neve la cadenza dei loro passi faceva un rumore sordo ma sopra volava la musica delle fanfare poi per quanto fosse inverosimile le mura già assediate dalla notte si alzarono lentamente verso lo zenith e dal loro limite supremo incorniciato da strisce di neve cominciarono a staccarsi nuvole bianche a forma di airone naviganti per gli spazi siderali passò nella mente di drogo il ricordo della sua città un'immagine pallida vie fragorose sotto la piova stato e di gesso umidità di caserme squallide campane facce stanche e disfatte pomeriggi senza fine soffitti sporchi di polvere qui invece avanzava la notte grande delle montagne con le nubi in fuga sulla fortezza miracolosi presagi e dal nord dal settentrione invisibile dietro le mura drogo sentiva premere il proprio destino medico medico disse drogo quasi balbettando io sto bene lo so rispose il medico che cosa credeva io sto bene e voglio restare restare qui alla fortezza non vuole più partire che cosa le è successo io non so disse giovanni ma non posso partire o esclamò rovina avvicinandosi se lei non scherza giuro che sono contento non scherzo no fece drogo che sentiva l'esaltazione tramutarsi in una strana pena prossima alla felicità medico butti via quella carta capitolo decimo così doveva accadere e questo forse era già stabilito da molto tempo cioè da quel giorno lontano che drogo si affacciò per la prima volta con ortiz al bordo del pianoro e la fortezza gli apparve nel greve splendore meridiano drogo ha deciso di rimanere tenuto da un desiderio ma non solo da questo l'eroico pensiero forse a tanto non sarebbe bastato per ora egli crede di aver fatto una cosa nobile e in buona fede se ne meraviglia scoprendosi migliore di quanto avesse creduto solo molti mesi più tardi guardandosi indietro egli riconoscerà le misere cose che lo legano alla fortezza avessero pur suonato le trombe si fossero pure udite canzoni di guerra dal nord fossero pure giunti inquietanti messaggi se era solo questo drogo sarebbe ugualmente partito ma c'era già in lui il torpore delle abitudini la vanità militare l'amore domestico per le quotidiane mura al monotono ritmo del servizio quattro mesi erano bastati per invischiarlo abitudine era diventato per lui il turno di guardia che le prime volte pareva insopportabile peso a poco a poco aveva imparato bene le regole i modi di dire le manie dei superiori la topografia delle ridotte i posti delle sentinelle gli angoli dove non tirava vento il linguaggio delle trombe dalla padronanza del servizio ricavava uno speciale piacere valutando la crescente stima dei soldati e dei sottufficiali persino tronc si era accorto come drogo fosse serio e scrupoloso gli si era quasi affezionato abitudine erano diventati i colleghi oramai li conosceva così bene che anche i più sottili loro sottintesi non lo trovavano impreparato e per lungo tempo alla sera stavano a chiacchierare insieme dei fatti della città che per la lontananza acquistavano smisurato interesse abitudine la mensa buona e comoda l'accogliente camino del ritrovo ufficiali giorno e notte sempre acceso la premura dell'attendente un buon diavolo di nome geronimo che a poco a poco aveva imparato i suoi speciali desideri abitudine le gite fatte ogni tanto con morel al paese meno lontano due ore abbondanti di cavallo attraverso una stretta valle che oramai avevano imparato a memoria una locanda dove si vedeva finalmente qualche faccia nuova si preparavano pranzi sontuosi e si udivano fresche risate di ragazze con cui si poteva fare l'amore abitudine le sfrenate corse a cavallo su e giù per la spianata dietro la fortezza in gara di bravura coi compagni nei pomeriggi di riposo e le pazienti partite a scacchi la sera che arrivavano ad alta voce spesso vittoriose per drogo ma il capitano ortiz gli aveva detto sempre così i nuovi arrivati da principio vincono sempre a tutti capita lo stesso ci si illude di essere veramente bravi invece è solo questione della novità anche gli altri finiscono per imparare il nostro sistema e un bel giorno non si riesce più a niente abitudine erano per drogo la camera le placide letture notturne la fessura del soffitto sopra il letto che assomigliava alla testa di un turco i tonfi della cisterna col tempo diventati amici la fossa scavata dal suo corpo nel materasso le coperte nei primi giorni così in ospitali ed ora docilmente pronte il movimento oramai eseguito istintivamente nella lunghezza esatta per spegnere la lampada a petrolio o mettere il libro sul tavolino sapeva oramai come dovesse disporsi al mattino quando si faceva la barba dinanzi allo specchio perché la luce lo illuminasse in faccia con l'angolo giusto come versare l'acqua della brocca nel catino senza spanderne fuori come far scattare la serratura ribelle di un cassetto tenendo la chiave piegata un po in basso abitudine lo scricchiolio della porta nei periodi di pioggia il punto dove soleva battere il raggio di luna entrato dalla finestra e il suo lento spostarsi col passare delle ore il tramestio della stanza sotto la sua ogni notte a luna e mezzo in punto quando l'antica ferita alla gamba destra del tenente colonnello nicolosi si risvegliava misteriosamente interrompendogli il sonno tutte queste cose erano oramai diventate sue e lasciarle gli avrebbe causato pena drogo però non lo sapeva non sospettava che la partenza gli sarebbe costata fatica né che la vita della fortezza inghiottisse i giorni uno dopo l'altro tutti simili con velocità vertiginosa ieri e l'altro ieri erano uguali egli non avrebbe più saputo distinguerli un fatto di tre giorni prima o di venti finiva per sembrargli ugualmente lontano così si svolgeva alla sua insaputa la fuga del tempo ma per adesso ecco lo spavaldo e spensierato sugli spalti della quarta ridotta in una pura e gelida notte per il freddo le sentinelle continuavano a camminare senza posa e i loro passi scricchiolavano sulla neve gelata una luna grande e bianchissima illuminava il mondo il forte le rupi la valle pietrosa al nord erano inondati di luce meravigliosa risplendeva perfino la cortina di nebbie ristagnanti all'estremo settentrione giù nella stanza dell'ufficiale di servizio nell'interno della ridotta era rimasta accesa la lampada la fiamma oscillava leggermente facendo dondolare le ombre drogo poco prima aveva cominciato a scrivere una lettera doveva rispondere a maria la sorella di vescovi il suo amico che forse un giorno sarebbe stata la sua sposa ma dopo due righe si era alzato non sapeva neppure lui il perché ed era salito sul tetto a guardare era quello il tratto più basso della fortificazione corrispondente al massimo incavo del valico in quel punto nella muraglia c'era la porta che metteva in comunicazione i due stati i massicci battenti corazzati di ferro più non si aprivano da tempo immemorabile e la guardia per la ridotta nuova usciva ed entrava ogni giorno per una porticina secondaria larga appena come un uomo e sorvegliata da una sentinella per la prima volta drogo montava di guardia alla quarta ridotta appena uscito all'aperto egli guardò le rupi incombenti a destra tutte incrostate di ghiaccio e risplendenti sotto la luna folate di vento cominciavano a trasportare attraverso il cielo piccole nuvole bianche e scuotevano il mantello di drogo il mantello nuovo che significava per lui tante cose immobile egli fissava le barriere di rupi di rimpetto le impenetrabili lontanze del nord e le ali del mantello crepitavano come bandiera drappeggiandosi tempestosamente drogo sentiva di avere quella notte una fiera e militaresca bellezza diritto sul ciglio della terrazza con lo splendido mantello agitato dal vento vicino a lui tronc infagottato in un largo pastrano non sembrava neppure un soldato dica un po tronc chiese giovanni con finta aria preoccupata è una mia impressione o la luna questa notte è molto più larga del solito non credo signor tenente disse tronc qui alla fortezza fa sempre quest'impressione le voci risuonavano grandemente come se l'aria fosse di vetro tronc visto che il tenente non aveva da dirgli altre cose segnando a lungo il ciglio della terrazza per il suo perenne bisogno di controllare il servizio drogo rimase solo e si sentì praticamente felice assaporava con orgoglio la sua determinazione di restare l'amaro gusto di lasciare le piccole sicure gioie per un grande bene a lunga e in certa scadenza e forse c'era sotto il consolante pensiero che avrebbe sempre fatto in tempo a partire un presentimento o era solo una speranza di cose nobili e grandi lo aveva fatto rimanere lassù ma poteva anche essere soltanto un rinvio nulla in fondo restava pregiudicato e gli aveva tanto tempo davanti tutto il buono della vita pareva aspettarlo che bisogno c'era di affannarsi anche le donne amabili e straniere creature le prevedeva come una felicità sicura a lui formalmente promessa dal normale ordine nella vita quanto tempo davanti lunghissimo gli pareva anche un solo anno e gli anni buoni erano appena cominciati sembravano formare una serie lunghissima di cui era impossibile scorgere il fondo un tesoro ancora intatto e così grande da potersi annoiare nessuno c'era che gli dicesse attento giovanni drogo la vita gli appariva inesauribile ostinata illusione benché la giovinezza fosse già cominciata a sfiorire ma drogo non conosceva il tempo anche se avesse avuto dinnanzi a sé una giovinezza di cento e cento anni come gli dèi anche questo sarebbe stata una povera cosa e lui aveva invece disponibile una semplice normale vita una piccola giovinezza umana avaro dono che le dita delle mani bastavano a contare e si sarebbe dissolto prima ancora di farsi conoscere quanto tempo dinanzi pensava eppure esistevano uomini aveva sentito dire che a un certo punto strano a dirsi si mettevano ad aspettare la morte questa cosa nota ed assurda che non lo poteva riguardare drogo sorrideva pensandoci e intanto sollecitato dal freddo si era messo a camminare le mura in quel punto seguivano il pendio del valico formando una complicata scala di terrazze e ballatoi sotto di lui nerissime contro la neve drogo vedeva alla luce di luna le successive sentinelle i loro passi metodici facevano cric cric sullo strato gelato la più vicina in una sottostante terrazza ad una decina di metri meno freddolosa delle altre se ne stava immobile con le spalle appoggiate ad un muro e si sarebbe detto addormentata invece drogo laudì canterellare una nenea con voce profonda era una successione di parole che drogo non riusciva a distinguere legate fra loro da un'aria monotona e senza fine parlare e peggio cantare in servizio era severamente proibito giovanni avrebbe dovuto punirlo ma ne ebbe pietà pensando al freddo e alla solitudine di quella notte cominciò allora a scendere una breve scala che portava sulla terrazza e fece un piccolo colpo di tosse per mettere sull'avviso il soldato la sentinella voltò la testa e come vide l'ufficiale rettificò la posizione ma non interruppe la nenea drogo fu preso dalla collera credevano quei soldati di poterlo sfottere gli avrebbe fatto assaggiare lui qualcosa di duro la sentinella notò subito l'atteggiamento minaccioso di drogo e sebbene la formalità della parola d'ordine per muto vecchissimo accordo non fosse praticata fra i soldati e il comandante della guardia ebbe un eccesso di scrupolo imbracciato il fucile gli chiese con l'accento particolarissimo usato nella fortezza chi va là chi va là drogo si fermò di colpo disorientato a forse meno di cinque metri di distanza al lume limpido della luna egli vedeva benissimo la faccia del militare e la sua bocca era chiusa ma la nenea non si era interrotta da dove veniva allora la voce pensando a questa strana cosa poiché il soldato se ne stava sempre in attesa giovanni disse meccanicamente la parola d'ordine miracolo miseria rispose la sentinella e rimise l'arma al piede subentrò un silenzio immenso nel quale più forte di prima navigava il brontolio di parole e di canto finalmente drogo capì ed un lento brivido gli camminò nella schiena era l'acqua era una lontana cascata scrosciante giù per gli apicchi delle rupi vicine il vento che faceva oscillare il lunghissimo getto il misterioso gioco degli echi il diverso suono delle pietre percosse ne facevano una voce umana la quale parlava parlava parole della nostra vita che si era sempre a un filo dal capire e invece mai non era dunque il soldato che canterellava non un uomo sensibile al freddo alle punizioni all'amore ma la montagna ostile che triste sbaglio pensò drogo forse tutto è così crediamo che attorno ci siano creature simili a noi e invece non c'è che gelo pietre che parlano una lingua straniera stiamo per salutare l'amico ma il braccio ricade inerte il sorriso si spegne perché ci accorgiamo di essere completamente soli il vento batte contro lo splendido mantello dell'ufficiale e anche l'ombra azzurra sulla neve si agita come bandiera la sentinella sta immobile la luna cammina cammina lenta ma senza perdere un solo istante impaziente dell'alba toc toc batte il cuore in petto a giovanni drogo capitolo undicesimo quasi due anni dopo giovanni drogo dormiva una notte nella sua camera della fortezza 22 mesi erano passati senza portare niente di nuovo e lui era rimasto fermo ad aspettare come se la vita dovesse avere per lui una speciale indulgenza eppure 22 mesi sono lunghi e possono succedere molte cose c'è tempo perché si formino nuove famiglie nascano bambini e incominciano anche a parlare perché una grande casa sorga dove prima c'era soltanto prato perché una bella donna invecchi e nessuno più la desideri perché una malattia anche delle più lunghe si prepari e intanto l'uomo continua a vivere spensierato consumi lentamente il corpo si ritiri per brevi parvenze di guarigione riprenda più dal fondo succhiando le ultime speranze rimane ancora tempo perché il morto sia sepolto e dimenticato perché il figlio sia di nuovo capace di ridere e alla sera conduca le ragazze nei viali inconsapevole lungo le cancellate del cimitero l'esistenza di drogo invece si era come fermata la stessa giornata con le identiche cose si era ripetuta centinaia di volte senza fare un passo innanzi il fiume del tempo passava sopra la fortezza screpolava le mura trascinava in basso polvere e frammenti di pietra limava gli scalini e le catene ma su drogo passava in vano non era ancora riuscito ad agganciarlo nella sua fuga anche quella notte sarebbe stata uguale a tutte le altre se drogo non avesse fatto un sogno egli era tornato bambino e si trovava di notte al davanzale di una finestra al di là di una profonda rientranza della casa vedeva la facciata di un palazzo ricchissimo illuminato dalla luna e l'attenzione di drogo bambino era tutta attratta verso un'altra sottile finestra coronata da un baldacchino di marmo la luna entrando attraverso i vetri batteva su un tavolo dove c'erano un tappeto un vaso e alcune statuette di avorio e questi pochi oggetti visibili facevano immaginare che nel buio dietro si aprissero le intimità di un vasto salone il primo di una interminabile serie pieni di cose preziose e il palazzo intero dormisse di quel sonno assoluto e provocante che conoscono le dimore della gente ricca e felice che gioia pensò drogo poter vivere in quei saloni girare per ore scoprendo sempre nuovi tesori tra la finestra cui si era affacciato e il meraviglioso palazzo un intervallo di una ventina di metri avevano intanto cominciato a fluttuare fragili parvenze simili a fate forse che si trascinavano dietro strascichi di velo rilucenti alla luna nel sogno la presenza di simili creature mai viste nel mondo reale non stupiva giovanni esse ondeggiavano nell'aria in lenti vortici sfiorando insistentemente la sottile finestra per la loro natura e se apparivano logiche pertinenze del palazzo ma il fatto che non badassero affatto a drogo mai avvicinandosi alla sua casa lo mortificava anche le fate dunque rifugivano dai bambini comuni per badare soltanto alla gente fortunata che non le stava neppure a guardare ma dormiva indifferente sotto baldacchini di seta fece drogo due o tre volte timidamente per attirare l'attenzione dei fantasmi ben sapendo però in cuor suo che sarebbe stato inutile nessuno di quelli infatti parve sentire nessuno si accostò sia pure di un metro al suo davanzale ma ecco una di quelle magiche creature aggrapparsi al bordo della opposta finestra con una specie di braccio e battere il vetro discretamente come per chiamare qualcuno non passarono molti istanti che una esile figura o quanto piccola in confronto della monumentale finestra comparve dietro i vetri e drogo riconobbe angustina pure lui bambino angustina di un impressionante pallore portava un vestito di velluto con un collo di pizzo bianco e non pareva per nulla soddisfatto di quella silenziosa serenata drogo pensò che il compagno se non altro per cortesia lo avrebbe invitato a giocare insieme coi fantasmi ma non fu così angustina non parve notare l'amico e neppure quando giovanni lo chiamò angustina angustina rivolse gli sguardi a lui con gesto stanco l'amico invece aprì la finestra e si fosse con lui in dimestichezza e volesse dirgli una cosa lo spirito fece un cenno e seguendo la direzione di quel gesto drogo volse gli sguardi a una grande piazza assolutamente deserta che si stendeva dinanzi alle case sopra questa piazza ad una decina di metri dal suolo avanzava per l'aria un piccolo corteo di altri spiriti che trascinavano una portantina fatta apparentemente della loro medesima essenza la portantina traboccava di veli e pennacchi angustina con la sua caratteristica espressione di distacco e di noia la guardava avvicinarsi era evidente che veniva per lui l'ingiustizia feriva il cuore di drogo perché tutto ad angustina e a lui niente pazienza un altro ma proprio angustina sempre così superbo e arrogante drogo guardò le altre finestre per vedere se ci fosse qualcuno che potesse eventualmente parteggiare per lui ma non riuscì a scorgere nessuno finalmente la portantina si fermò dondolando proprio dinanzi alla finestra e tutti i fantasmi d'un balzo si appollaiarono attorno formando una palpitante corona tutti erano protesi ad angustina non più ossequiosi bensì con curiosa avidità e quasi maligna abbandonata a se stessa la portantina si sosteneva nell'aria come appesa a fili invisibili di colpo drogo si svuotò di ogni invidia poiché capì ciò che stava accadendo vedeva angustina ritto al davanzale della finestra e i suoi occhi fissare la portantina sì erano venuti da lui i messaggeri delle fate quella notte ma per quale ambasciata a un lungo viaggio dunque doveva servire la portantina e non sarebbe ritornata prima dell'alba e neppure la notte successiva né la terza notte né mai i saloni del palazzo avrebbero aspettato in vano il padroncino due mani di donna avrebbero cautamente richiuso la finestra lasciata aperta dal fuggitivo e anche tutte le altre sarebbero state sprangate a covare nel buio il pianto e la desolazione i fantasmi già amabili non erano dunque venuti a giocare coi raggi della luna non erano usciti innocenti creature da giardini profumati ma provenivano dall'abisso gli altri bambini avrebbero pianto avrebbero chiamato la mamma invece angustina non aveva paura e confabulava pacatamente con gli spiriti come per stabilire certe modalità che era necessario chiarire stretti intorno alla finestra simili ad un panneggiamento di spuma quelli si accavallavano l'uno sull'altro premendo verso il bambino e lui faceva con la testa di sì come per dire va bene va bene tutto perfettamente d'accordo alla fine lo spirito che si era aggrappato per primo al davanzale forse il capo fece un piccolo gesto imperioso angustina sempre con la sua aria annoiata scavalcò il davanzale pareva già divenuto lieve come i fantasmi e si sedette nella portantina da signore accavallando le gambe il grappolo di fantasmi si sciolse in un ondeggiamento di veli la fatata carrozza mosse dolcemente per partire si compose un corteo le parvenze fecero una evoluzione semicircolare nella rientranza delle case per sollevarsi quindi nel cielo in direzione della luna nel descrivere il semicerchio anche la portantina passò a pochi metri dalla finestra di drogo che agitando le braccia tentò di gridare angustina angustina supremo saluto l'amico morto volse allora finalmente il capo verso giovanni fissandolo qualche istante e a drogo sembrò di leggervi una serietà assolutamente eccessiva per così piccolo bambino ma il volto di angustina lentamente si apriva ad un sorriso di complicità come se drogo e lui potessero capire molte cose sconosciute ai fantasmi una estrema voglia di scherzare l'ultima occasione per far vedere che lui angustina non aveva bisogno della pietà di nessuno un episodio qualsiasi pareva dire sarebbe stato stupido meravigliarsene traendolo via la portantina angustina staccò gli sguardi da drogo e volse il capo dinanzi in direzione del corteo con una specie di curiosità divertita e diffidente sembrava che sperimentasse per la prima volta un giocattolo a cui non teneva affatto ma che per convenienza non aveva potuto rifiutare così si allontanò nella notte con nobiltà quasi inumana non diede uno sguardo al suo palazzo non uno alla piazza sottostante o alle altre cose o alla città in cui era vissuto il corteo andò serpeggiando lentamente nel cielo sempre più in alto divenne una confusa scia poi un minimo ciuffetto di nebbia poi nulla la finestra era rimasta aperta i raggi della luna ancora illuminavano il tavolo il vaso le statuette di avorio che avevano continuato a dormire là dentro in altra stanza disteso sul letto al lume tremolante dei ceri forse stava disteso un piccolo corpo umano privo di vita il cui volto assomigliava ad angustina e doveva avere un vestito di velluto un grande collo di pizzo sulle bianche labbra raggelato un sorriso capitolo dodicesimo il giorno dopo giovanni drogo comandò la guardia alla ridotta nuova era questa un fortino staccato a tre quarti d'ora di strada dalla fortezza in cima ad un cono di roccia incombente sulla pianura dei tartari era il presidio più importante completamente isolato e doveva dare l'allarme se qualche minaccia si avvicinava drogo uscì alla sera dalla fortezza al comando di una settantina di uomini tanti soldati occorrevano perché i posti di sentinella erano dieci senza contare due cannoniere era la prima volta che egli metteva piede al di là del passo praticamente si era già fuori confine giovanni pensava alle responsabilità del servizio ma soprattutto meditava il sogno su angustina questo sogno gli aveva lasciato nell'animo una risonanza ostinata gli pareva che ci dovessero essere oscuri collegamenti con le cose future benché lui non fosse specialmente superstizioso entrarono nella ridotta nuova si fece il cambio delle sentinelle poi la guardia smontante se n'andò e dal ciglio della terrazza drogo stette ad osservarla che si allontanava attraverso i ghiaioni la fortezza di là appariva come un lunghissimo muro un semplice muro con dietro niente le sentinelle non si scorgevano perché troppo lontane solo la bandiera di tanto in tanto era visibile quando veniva agitata dal vento per 24 ore nella solitaria ridotta l'unico comandante sarebbe stato drogo qualsiasi cosa fosse successa non si potevano domandare aiuti anche se fossero arrivati i nemici il fortino doveva bastare a se stesso il re medesimo fra quelle mura per 24 ore contava meno di drogo aspettando che venisse la notte giovanni restò a guardare la pianura settentrionale dalla fortezza non ne aveva potuto vedere che un piccolo triangolo per via delle montagne davanti adesso la poteva invece scorgere tutta fino ai limiti estremi dell'orizzonte dove ristagnava la solita barriera di nebbia era una specie di deserto lastricato di rocce qua e là macchie di bassi cespugli polverosi a destra in fondo in fondo una striscia nera poteva essere anche una foresta ai fianchi l'aspra catena delle montagne venerano di bellissime con sterminati muraglioni a picco e la vetta bianca per la prima neve autunnale eppure nessuno le guardava tutti drogo e i soldati tendevano istintivamente a guardare verso nord alla desolata pianura priva di senso e misteriosa fosse il pensiero di essere completamente solo a comandare il fortino fosse la vista della disabitata landa fosse il ricordo del sogno di angustina drogo sentiva ora crescergli attorno col dilatarsi della notte una sorda inquietudine era una sera di ottobre di incerto tempo con chiazze di luce rossiccia disseminate qua e là sulla terra riflesse non si capiva da dove e progressivamente inghiottite dal crepuscolo colore di piombo come al solito entrava al tramonto nell'anima di drogo una specie di poetica animazione era l'ora delle speranze e lui ritornava a meditare le eroiche fantasie tante volte costruite nei lunghi turni di guardia e ogni giorno perfezionate con nuovi particolari in genere pensava ad una disperata battaglia impegnata da lui con pochi uomini contro innumerevoli forze nemiche come se quella notte la nuova fosse stata assediata da migliaia di tartari per giorni e giorni lui resisteva quasi tutti i compagni erano morti o feriti un proiettile aveva colpito anche lui una ferita grave ma non tanto che gli permetteva di sostenere ancora il comando ed ecco le cartucce stanno per finire lui tenta una sortita alla testa degli ultimi uomini una benda gli fascia la fronte e allora finalmente arrivare rinforzi il nemico sbandarsi e volgere in fuga lui cadere sfinito stringendo la sciabola insanguinata qualcuno però lo chiama tenente drogo tenente drogo chiama lo scuote per rianimarlo e lui drogo apre lentamente gli occhi il re il re in persona è chinato su di lui e gli dice bravo era l'ora delle speranze e lui meditava le eroiche storie che probabilmente non si sarebbero verificate mai ma che pure servivano a incoraggiare la vita certe volte si accontentava di molto meno rinunciava ad essere solo lui l'eroe rinunciava alla ferita rinunciava anche al re che gli diceva bravo in fondo sarebbe stata una semplice battaglia una battaglia sola ma sul serio caricare in grande uniforme ed essere capace di sorridere precipitando verso le facce ermetiche dei nemici una battaglia e dopo forse sarebbe stato contento per tutta la vita ma quella sera non era facile sentirsi un eroe le tenebre avevano già volto il mondo la pianura del nord aveva perso ogni colore ma non si era ancora assopita come se qualcosa di tristo vi stesse nascendo erano già le otto di sera e il cielo si era tutto riempito di nubi quando a drogo parvi di scorgere nella pianura un po' a destra proprio sotto la ridotta una piccola macchia nera che si muoveva devo avere gli occhi stanchi pensò a forza di guardare ho gli occhi stanchi e vedo delle macchie anche un'altra volta gli era capitato lo stesso quando era ragazzo e stava alzato la notte a studiare provò a tenere chiuse per qualche istante le palpebre poi rivolse gli sguardi agli oggetti attorno a un secchio che doveva essere servito per lavare la terrazza ad un uncino di ferro sul muro a un panchetto che l'ufficiale di servizio prima di lui doveva essersi fatto portare lassù per stare seduto solo dopo qualche minuto tornò a guardare in basso dove poco prima gli era parso di scorgere la macchia nera era ancora là e si spostava lentamente tronc chiamò drogo in tono agitato comandi signor tenente gli rispose immediatamente una voce tanto vicina che lo fece trasalire a lei è qua disse e prese respiro tronc non vorrei sbagliarmi ma mi pare mi pare di vedere qualcosa che si muove laggiù in basso sì signore rispose tronc con voce regolamentare è già parecchi minuti che la sto osservando come fece drogo la vista anche lei che cosa vede quella cosa che si muove signor tenente drogo si sentì rimescolare il sangue adesso ci siamo pensò dimenticando completamente le sue fantasie guerriere proprio a me doveva capitare adesso succede qualche pasticcio alla vista anche lei domandò ancora nell'assurda speranza che l'altro negasse sì signore fece tronc saranno dieci minuti ero andato da basso per vedere la pulizia dei cannoni poi sono salito qui e l'ho vista tacquero entrambi anche per tronc doveva pur essere un fatto strano e inquietante che cosa dice che sia tronc non riesco a capire si muove troppo ad agio come troppo ad agio sì pensavo che potessero essere i ciuffi delle canne ciuffi che ciuffi c'è un canneto laggiù in fondo fece un segno verso destra ma era inutile perché nel buio non si vedeva niente sono piante che in questa stagione ci vengono dei ciuffi neri alle volte il vento li stacca questi ciuffi e siccome sono leggeri volano via sembrano dei piccoli fumi ma non può essere aggiunse dopo una pausa si muoverebbero più svelti e che cosa può essere allora non capisco fece tronc uomini sarebbe strano verrebbero su da un'altra parte e poi continua a muoversi non si capisce allarmi allarmi gridò in quel momento una sentinella vicina poi un'altra poi un'altra ancora anche se avevano scorto la macchia nera dall'interno della ridotta accorsero immediatamente gli altri soldati non di turno si ammassarono al parapetto incuriositi e con un po di paura non lo vedi diceva uno ma sì proprio qui sotto adesso è fermo sarà della nebbia diceva un altro la nebbia certe volte ha dei buchi e si vede attraverso quello che c'è dietro sembra che ci sia qualcuno che si muove e invece sono dei buchi nella nebbia sì sì adesso vedo si sentiva dire ma c'è sempre stato quel coso nero lì è un sasso nero ecco che cos'è ma che sasso non vedi che si muove ancora sei orbo un sasso ti dico l'ho sempre visto un sasso nero che assomiglia a una monaca qualcuno rise via via di qua tornate subito dentro intervenne tronc prevenendo il tenente a cui tutte quelle voci aumentavano l'orgasmo i soldati a malincuore si ritirarono nell'interno e si fece di nuovo silenzio tronc chiese drogo a un tratto non sapendosi decidere da solo lei darebbe l'allarme l'allarme alla fortezza dice dice di sparare un colpo signor tenente ma non so neppure io le pare che ci sia da dare l'allarme tronc scosse il capo io aspetterei di vedere meglio se si spara alla fortezza si mettono in agitazione e poi se non c'è niente già ammise drogo e poi aggiunse tronc sarebbe anche fuori del regolamento il regolamento dice che bisogna dare l'allarme solo in caso di minaccia proprio così dice in caso di minaccia di comparsa di reparti armati e in tutti i casi in cui persone sospette si avvicinino a meno di cento metri al confine delle mura dice così il regolamento e già assentì giovanni e saranno più di cento metri vero dico anch'io approvò tronc e poi come si fa a dire che sia una persona e che cosa vuole che sia allora uno spirito fece drogo vagamente irritato tronc non rispose sospesi sull'interminabile notte stettero drogo e tronc appoggiati al parapetto con gli occhi fissi verso il fondo là dove cominciava la pianura dei tartari l'enigmatica macchia appariva immobile quasi stesse dormendo e a poco a poco giovanni ricominciava a pensare che davvero non ci fosse nulla soltanto un nero macigno assomigliante ad una monaca e che i suoi occhi si fossero ingannati un po di stanchezza null'altro una stupida allucinazione ora sentiva perfino un'ombra di opaca amarezza come quando le gravi ore del destino ci passano vicine senza toccarci e il loro rombo si perde lontano mentre noi rimaniamo soli fra gorghi di foglie secche a rimpiangere la terribile ma grande occasione perduta ma poi dalla valle buia con l'andar della notte risaliva il soffio della paura con l'andar della notte drogo si sentiva piccolo e solo tronc gli era troppo diverso per potergli servire da amico o se avesse avuto accanto i compagni magari uno soltanto allora sì sarebbe stato diverso drogo avrebbe anche trovato la voglia di scherzare e aspettare l'alba non gli avrebbe causato pena lingue di nebbia si andavano intanto formando nella pianura pallido arcipelago sopra oceano nero una di esse si stese proprio ai piedi della ridotta nascondendo l'oggetto misterioso l'aria si era fatta umida alle spalle di drogo il mantello pendeva floscio e pesante che lunga notte drogo aveva già perso la speranza che potesse mai terminare quando il cielo cominciò a impallidire e folate gelide annunciarono che l'alba non era lontana fu allora che lo sorprese il sonno in piedi appoggiato al parapetto della terrazza drogo per due volte lasciò ciondolare il capo due volte lo raddrizzò di soprassalto infine la testa si abbandonò inerte e le palpebre cedettero al peso il nuovo giorno nasceva si ridestò perché qualcuno gli toccava un braccio riemerse ad agio dai sogni sbalordito dalla luce una voce la voce di tronc gli diceva signor tenente è un cavallo ricordò allora la vita la fortezza la ridotta nuova l'enigma della macchia nera guardò subito in basso avido di sapere e desiderava vilmente di non scorgere altro che pietre e cespugli niente altro che la pianura così come era sempre stata solitaria e vuota la voce invece gli ripeteva signor tenente è un cavallo e lui drogo lo vide in verosimile cosa fermo ai piedi della rupe era un cavallo non grande ma basso e grossetto di curiosa bellezza per le gambe sottili e la criniera fluente strana era la sua forma ma soprattutto meraviglioso il colore un colore nero splendente che macchiava il paesaggio da dove era giunto di chi era nessuna creatura da moltissimi anni se non forse qualche corvo o biscia si era avventurata in quei luoghi ora invece era apparso un cavallo e si capiva subito che non era selvatico ma una bestia scelta un vero cavallo da militari forse solo le gambe erano un po troppo sottili era una cosa straordinaria di significato inquietante drogo tronche le sentinelle eppure gli altri soldati attraverso le feritoie del piano di sotto non riuscivano a staccarne gli occhi quel cavallo spezzava la regola riportava le antiche leggende del nord coi tartari e le battaglie riempiva della sua illogica presenza l'intero deserto da solo non significava granché ma dietro al cavallo si capiva che dovevano arrivare altre cose esso aveva la sella in ordine come se poco tempo prima fosse stato montato c'era dunque una storia in sospeso ciò che fino a ieri era assurdo ridicola superstizione poteva dunque essere vero drogo aveva l'impressione di sentirli i misteriosi nemici i tartari appiattati fra i cespugli nelle spaccature delle rocce immobili e muti coi denti serrati aspettavano il buio per attaccare e altri intanto ne giungevano un minaccioso formicolio che usciva lento dalle nebbie del nord essi non avevano musiche né canzoni non spade scintillanti non belle bandiere le loro armi erano opache perché non scintillassero al sole e i cavalli allenati a non nitrire ma un cavallino questo fu l'ultimo immediato pensiero alla ridotta nuova un cavallino era fuggito ai nemici e corso avanti a tradirli probabilmente essi non se ne erano accorti perché la bestia era fuggita dall'accampamento durante la notte il cavallo aveva così portato un messaggio prezioso ma di quanto tempo precedeva i nemici fino a se era drogo non avrebbe potuto informare il comando della fortezza e intanto i tartari potevano farsi sotto dare dunque l'allarme tronc diceva di no in fondo si trattava di un semplice cavallo diceva il fatto che era giunto ai piedi della ridotta poteva significare che si era trovato isolato forse il padrone era un cacciatore solitario spintosi imprudentemente nel deserto e morto o ammalato il cavallo rimasto solo era andato a cercare la salvezza aveva sentito la presenza dell'uomo dalla parte della fortezza e adesso aspettava che gli portassero biada questo appunto faceva dubitare seriamente che un esercito stesse avvicinandosi che motivo poteva avere avuto la bestia per fuggire da un accampamento in una terra così inospitale e poi diceva tronc aveva sentito dire che i cavalli dei tartari erano quasi tutti bianchi anche in un vecchio dipinto appeso in una sala della fortezza si vedevano i tartari montati tutti su destrieri bianchi e questo invece era nero come il carbone così drogo dopo molte titubanze decise di aspettare la sera nel frattempo il cielo si era schiarito e il sole illuminò il paesaggio riscaldando il cuore dei soldati anche giovanni si sentì rinfrancare dalla chiara luce le fantasie dei tartari persero consistenza tutto ritornava alle proporzioni normali il cavallo era un semplice cavallo e alla sua presenza si poteva trovare una quantità di spiegazioni senza ricorrere a incursioni nemiche allora dimenticando le paure notturne egli si sentì improvvisamente disposto a qualsiasi avventura e lo riempiva di gioia il presentimento che il suo destino era alle porte una sorte felice che lo avrebbe messo al di sopra degli altri uomini si compiacque di provvedere personalmente alle più minute formalità del servizio di guardia come per dimostrare a tronc e ai soldati che la comparsa del cavallo benché strana e preoccupante non lo aveva affatto turbato e trovava questo molto militare i soldati a dir la verità non avevano alcun timore il cavallo lo avevano preso sul ridere sarebbe loro piaciuto moltissimo poterlo catturare e portarlo come trofeo alla fortezza uno di essi chiese anzi il permesso al sergente maggiore che si limitò ad un'occhiata di rimprovero come a dire che sulle cose di servizio non era lecito scherzare nel piano inferiore invece dove erano installati due cannoni uno degli artiglieri si era agitato moltissimo alla vista del cavallo si chiamava giuseppe lazzari un giovanotto da poco è entrato in servizio diceva che quel cavallo era il suo lo riconosceva perfettamente non poteva sbagliarsi dovevano averlo lasciato fuggire mentre le bestie erano uscite dalla fortezza per la beverata è fiocco il mio cavallo gridava come se fosse veramente di sua proprietà e glielo avessero rubato tronc sceso da basso fece subito tacere le grida e dimostrò seccamente a lazzari come fosse impossibile che il suo cavallo fosse fuggito per passare nella valle del nord avrebbe dovuto attraversare le mura della fortezza o scavalcare le montagne il lazzari rispose che c'era un passaggio aveva sentito dire un comodo passaggio attraverso le rupi un'antica strada abbandonata che nessuno più ricordava c'era di fatti alla fortezza fra le tante questa curiosa leggenda ma doveva essere una fandonia di quel segreto passaggio non si era mai trovata traccia a destra e a sinistra della fortezza per chilometri e chilometri sorgevano selvagge montagne che non erano state mai valicate ma il soldato non si persuase e fremeva all'idea di doversene stare chiuso nella ridotta senza poter riprendersi il cavallo mezz'ora di cammino sarebbe bastata fra andare e tornare intanto le ore si consumavano il sole continuava il suo viaggio verso l'occidente le sentinelle si davano il cambio al tempo giusto il deserto risplendeva più solitario che mai il cavallino se ne stava al posto di prima per lo più immobile come se dormisse o andava in giro cercando qualche filo d'erba gli sguardi di drogo cercavano nella lontananza ma non avvistavano nulla di nuovo sempre le stesse lastronate rocciose i cespugli le nebbie dell'estremo settentrione che mutavano lentamente colore man mano che la sera si avvicinava venne la guardia nuova a dare il cambio drogo e i suoi soldati lasciarono la ridotta si avviarono di traverso ai ghiaioni per ritornare alla fortezza tra le ombre violette della sera giunti che furono alle mura drogo disse la parola d'ordine per sé e per i suoi uomini la porta venne aperta la guardia smontante si schierò in una specie di cortiletto e tronc cominciò a fare l'appello intanto drogo si allontanò per avvertire il comando del misterioso cavallo come era prescritto drogo si presentò al capitano di ispezione poi insieme andarono a cercare il colonnello di solito per le novità bastava rivolgersi all'aiutante maggiore in prima ma questa volta poteva essere una cosa grave e non bisognava perdere tempo intanto la voce era corsa fulminiamente per tutta la fortezza qualcuno negli estremi corpi di guardia già parlottava di interi squadroni tartari accampati ai piedi delle rocce il colonnello quando seppe disse soltanto bisognerebbe cercare di prenderlo questo cavallo se ha la sella si potrà forse capire da dove viene ma era ormai inutile perché il soldato giuseppe lazzari mentre la guardia smontante ritornava verso la fortezza era riuscito a nascondersi dietro un pietrone senza che nessuno se ne accorgesse era poi sceso da solo per i ghiaioni aveva raggiunto il cavallino ed ora lo riconduceva alla fortezza constatò con stupore che non era il suo ma non c'era oramai altro da fare soltanto nell'atto di entrare nella fortezza qualche compagno si era accorto che lui era scomparso se tronca fosse venuto a saperlo il lazzari sarebbe rimasto in prigione almeno un paio di mesi bisognava salvarlo perciò quando il sergente maggiore fece l'appello e venne il nome del lazzari uno rispose per lui presente qualche minuto più tardi quando i soldati avevano già rotto le righe ci si ricordò che il lazzari non sapeva la parola d'ordine non si trattava più della prigione ma della vita guai se si fosse presentato alle mura gli avrebbero sparato contro due tre compagni si misero allora alla ricerca di tronc perché trovasse un riparo troppo tardi tenendo per le briglie il cavallo nero lazzari era già vicino alle mura e sul cammino di ronda c'era tronc richiamato lassù da un vago presentimento subito dopo aver fatto l'appello un inquietudine aveva colto il sergente maggiore lui non riusciva a stabilirne la causa ma intuiva che qualche cosa non andava bene riesaminando i fatti della giornata era arrivato fino al ritorno alla fortezza senza trovare nulla di sospetto poi aveva come incontrato un intoppo sì all'appello doveva esserci stata una irregolarità e al momento come spesso avviene in questi casi egli non l'aveva avvertita una sentinella faceva la guardia proprio sopra la porta d'ingresso nella penombra vide sulle ghiaie due figure nere che venivano avanti saranno state a 200 metri non ci vadò pensò di avere un'allucinazione molte volte nei posti deserti a stare lungo tempo in attesa si finisce per scorgere anche in pieno giorno sagome umane sgusciare fra i cespugli e le rocce si ha l'impressione che qualcuno ci stia spiando poi si va a vedere e non c'è nessuno la sentinella per distrarsi si guardò attorno fece un cenno di saluto ad un compagno sentinella una trentina di metri più a destra si aggiustò il pesante berretto che gli stringeva la fronte poi volse gli occhi a sinistra e vide il sergente maggiore tronc immobile che lo fissava severamente la sentinella si riscosse guardò ancora dinanzi a sé vide che le due ombre non erano un sogno si trovavano oramai vicine saranno stati appena 70 metri esattamente un soldato e un cavallo allora imbracciò il fucile preparò il cane allo sparo si rigidì nel gesto ripetuto centinaia di volte all'istruzione poi gridò chi va là chi va là il lazzari era soldato da poco tempo non pensava neppure lontanamente che senza la parola d'ordine non sarebbe potuto rientrare tutt'al più temeva una punizione per essersi allontanato senza permesso ma chissà forse il colonnello l'avrebbe perdonato per via del cavallo recuperato era una bestia bellissima un cavallo da generale non mancavano che una quarantina di metri i ferri del quadrupede risuonavano sulle pietre era quasi notte completa si udì un lontano suono di tromba chi va là chi va là ripeté la sentinella ancora una volta e poi avrebbe dovuto sparare un improvviso disagio aveva colto il lazzari al primo richiamo della sentinella gli pareva così strano ora che si trovava personalmente di mezzo sentirsi interpellare in quel modo da un compagno ma si rasserenò al secondo chi va là perché riconobbe la voce di un amico proprio della stessa compagnia che loro chiamavano confidenzialmente moretto sono io lazzari gridò manda il capoposto ad aprirmi ho preso il cavallo e non farti accorgere se no mi hanno dentro la sentinella non si mosse con il fucile imbracciato se ne stava ferma cercando di ritardare al possibile il terzo chi va là forse il lazzari si sarebbe accorto da solo del pericolo sarebbe tornato indietro avrebbe potuto magari aggregarsi il giorno dopo alla guardia della ridotta nuova ma a pochi metri c'era tronc che lo fissava severamente tronc non diceva parola ora egli guardava la sentinella ora il lazzari per colpa del quale probabilmente sarebbe stato punito che cosa volevano dire i suoi sguardi il soldato e il cavallo non distavano più di 30 metri aspettare ancora sarebbe stato imprudente quanto più vicino si faceva il lazzari tanto più facilmente sarebbe stato colpito chi va là chi va là gridò la terza volta alla sentinella e nella voce c'era un sottinteso come un avvertimento privato e antiregolamentare voleva dire torna indietro fino a che sei in tempo vuoi farti ammazzare e finalmente il lazzari capì si ricordò in un lampo le dure leggi della fortezza si sentì perduto ma invece di fuggire chissà perché lasciò le briglie del cavallo e si fece avanti da solo invocando con voce acuta sono io lazzari non mi vedi moretto o moretto sono io ma che cosa fai con il fucile sei matto moretto ma la sentinella non era più moretto era semplicemente un soldato con la faccia dura che adesso alzava lentamente il fucile mirando contro l'amico aveva appoggiato lo schioppo alla spalla e con la coda dell'occhio sbirciò il sergente maggiore invocando silenziosamente un cenno di lasciar stare invece tronche stava sempre immobile e lo fissava severamente il lazzari senza voltarsi retrocedette di qualche passo incespicando sulle pietre sono io lazzari gridava non vedi che sono io non sparare moretto ma la sentinella non era più il moretto con cui tutti i camerati scherzavano liberamente era soltanto una sentinella della fortezza in uniforme di panno azzurro scuro con la bandoliera di mascarizzo assolutamente identica a tutte le altre nella notte una sentinella qualsiasi che aveva ammirato ed ora premeva il grilletto sentiva negli orecchie un rombo e gli parve di udire la voce rauca di tronc mira giusto benché tronc non avesse fiatato il fucile fece un piccolo lampo una minuscola nuvoletta di fumo anche lo sparo al primo momento non sembrò granché ma poi fu moltiplicato dagli echi ripercosso di muraglia in muraglia restò a lungo nell'aria morendo in un lontano brontolio come di tuono ora che il dovere era fatto la sentinella mise il fucile a terra si sporse dal parapetto guardò in giù sperando di non avere colpito e nel buio gli parve infatti che il lazzari non fosse caduto no il lazzari era ancora in piedi e il cavallo gli si era fatto vicino poi nel silenzio lasciato dallo sparo si udì la sua voce con che disperato suono o moretto mi hai ammazzato questo il lazzari disse e si afflosciò lentamente in avanti tronc col volto impenetrabile ancora non si era mosso mentre un rimescolio guerriero si propagava per i meandri della fortezza capitolo tredicesimo così cominciò quella notte memorabile attraversata dai venti fra dondolì di lanterne insolite trombe passi negli androni nuvole che scendevano a precipizio dal nord si impigliavano alle cime rocciose lasciandoci attaccati i brandelli ma non avevano tempo di fermarsi qualcosa di molto importante le chiamava era bastato uno sparo un modesto colpo di fucile e la fortezza si era svegliata per anni c'era stato un silenzio e loro sempre tesi al nord per udire la voce della guerra sopraggiungere troppo lungo silenzio adesso un fucile aveva sparato con la sua carica di polvere prescritta e la pallottola di piombo di 32 grammi e gli uomini si erano guardati a vicenda come se fosse stato quello il segnale certo anche questa sera nessuno tranne qualche soldato pronuncia il nome che è nel cuore di tutti gli ufficiali preferiscono tacerlo perché proprio quella è la speranza per i tartari hanno alzato le mura della fortezza consumano lassù larghe porzioni di vita per i tartari le sentinelle camminano giorno e notte come automi e chi questa speranza alimenta ogni mattino di nuova fede chi la conserva nascosta nel fondo chi non sa neppure di possederla credendo di averla perduta ma nessuno ha il coraggio di parlarne sembrerebbe di malaugurio soprattutto parrebbe di confessare i propri pensieri più cari e i soldati di questo hanno vergogna per ora c'è soltanto un soldato morto e un cavallo di ignota provenienza nel corpo di guardia alla porta che dà sul nord dove è successa la disgrazia c'è un gran fermento e benché non sia regolamentare si trova anche tronc il quale non ha requie pensando alla punizione che lo attende la responsabilità cade su lui lui doveva impedire a lazari di fuggire lui doveva accorgersi subito al ritorno che il soldato non aveva risposto all'appello ecco che adesso compare anche il maggiore matti ansioso di far sentire la propria autorità e competenza ha una strana faccia che non si capisce può perfino dare l'impressione che sorrida evidentemente è informato alla perfezione di tutto e al tenente mentana di servizio in quella ridotta da ordine di far ritirare il cadavere del soldato mentana è un ufficiale scialbo il più anziano tenente della fortezza se non avesse un anello con un grosso diamante e non giocasse bene a scacchi nessuno si accorgerebbe della sua esistenza grossissima è la pietra preziosa al suo annulare e pochi sono quelli che riescono a batterlo sulla scacchiera ma di fronte al maggiore matti egli trema letteralmente e perde la testa in una cosa così semplice come quella di mandare una corvée per un morto per sua fortuna il maggiore matti a scorto in piedi in un angolo il sergente maggiore tronc e lo chiama tronc visto che lei qui non ha niente da fare prenda il comando della situazione dice così con la massima naturalezza come se tronc fosse un sottofficiale qualsiasi senza alcun rapporto personale con l'incidente perché matti non è capace di fare un rimprovero diretto finisce per diventare bianco di rabbia e non trova le parole preferisce la ben più dura arma delle inchieste con flemmatici interrogatori documentazioni scritte che riescono a ingrandire mostruosamente le più lievi mancanze e portano quasi sempre a punizioni di impegno tronc non batte ciglio risponde signor sì e si affretta nel cortiletto subito dietro il portone un piccolo gruppo alla luce di lanterne esce poco dopo dalla fortezza tronc in testa poi quattro soldati con una barella altri quattro soldati armati per precauzione per ultimo lo stesso maggiore matti avvolto in una stinta mantella che trascina la sciabola sui sassi e si trovano i lazari così come morto la faccia a terra e le braccia protese in avanti il fucile tenuto a tracolla si è impigliato nella caduta fra due sassi e sta diritto in su col calcio in alto cosa strana a vedersi il soldato cadendo si è ferito una mano e prima che il corpo si raffreddasse un po di sangue ha fatto in tempo a colare formando macchia sopra una pietra bianca il cavallo misterioso è scomparso tronc si china sul morto e fa per afferrarlo alle spalle ma si ritira di scatto indietro come se si fosse accorto di andare contro le regole tiratelo su ordina i soldati con voce bassa e cattiva ma prima levategli il fucile un soldato si abbassa per slacciare la cinghia e depone sui sassi la lanterna proprio vicino al morto lazari non ha fatto in tempo a chiudere completamente le palpebre e nello spiraglio degli occhi sul bianco la fiamma fa un lieve riflesso tronc chiama allora il maggiore matti rimasto completamente nell'ombra comandi signor maggiore risponde tronc mettendosi sull'attenti anche i soldati si fermano dov'è successo dov'è scappato domanda il maggiore strascicando le parole come se parlasse per annoiata curiosità è stato alla fonte dove ci sono quei pietroni signor sia i pietroni risponde tronc e non aggiunge parola e nessuno l'ha visto quando è scappato nessuno signor no fa tronc alla fonte e c'era buio signor sia abbastanza buio tronc aspetta qualche istante sull'attenti poi siccome il matti tace fa segno ai soldati di continuare uno cerca di slacciare la cinghia del fucile ma il fermaglio è duro e si stenta tirando il soldato sente il peso del corpo ucciso un peso spropositato come di piombo tolto il fucile i due soldati rovesciano delicatamente il cadavere voltandolo con la faccia in su ora si vede completamente il suo volto la bocca è chiusa in espressiva solo gli occhi semi aperti e immobili che resistono alla luce della lanterna sanno di morte in fronte domanda la voce di matti che si è subito accorto di una specie di piccola infossatura proprio sopra il naso comandi fa tronc senza capire dico è stato colpito in fronte fa matti seccato di dover ripetere tronc solleva la lanterna illumina in pieno la faccia del lazari vede anche lui la piccola infossatura e istintivamente avvicina un dito come per toccare subito però lo ritrae turbato credo di sì signor maggiore qui proprio in mezzo alla fronte ma perché non viene a vederselo lui il morto se gli interessa tanto perché tutte quelle stupide domande i soldati accorgendosi dell'imbarazzo di tronc badano al loro lavoro due sollevano il cadavere per le spalle due per le gambe la testa lasciata a sé penzola indietro orribilmente la bocca benché gelata dalla morte torna quasi ad aprirsi e chi è stato a sparare domanda ancora matti sempre immobile nel buio ma in quel momento tronc non gli bada tronc sta solo attento al morto tenetegli sulla testa comanda con ira fonda come se il morto fosse lui poi si accorge che il matti ha parlato scatta ancora sull'attenti perdoni signor maggiore stavo ho detto ripete il maggiore matti e scandisce le parole facendo capire che se non perde la pazienza è tutto merito di quel morto ho detto chi è stato a sparare come si chiama lo sapete chiede a bassa voce tronc ai soldati martelli dice uno giovanni martelli giovanni martelli risponde tronc ad alta voce martelli ripete fra sé se il maggiore quel nome non gli torna nuovo deve essere uno di quelli premiati alla gara di tiro la scuola di tiro la dirige proprio il matti e i migliori se li ricorda per nome è forse quello che chiamano il moretto signor sì risponde tronc immobile sull'attenti credo che lo chiamino il moretto sa signor maggiore fra compagni dice così quasi per scusarlo quasi per dimostrare che il martelli non ha nessuna responsabilità che se lo chiamano il moretto non è una colpa sua e che non c'è proprio motivo di punirlo ma il maggiore non pensa affatto a punirlo non gli passa nemmeno per il cervello ah il moretto esclama senza nascondere una certa compiacenza il sergente maggiore lo fissa con occhi duri e capisce ma sì ma sì pensa dagli un premio carogna perché è ammazzato bene un magnifico centro no un magnifico centro sicuro è proprio quello che il matti sta meditando e pensare che quando il moretto ha sparato era già buio in gamba tutti i suoi tiratori tronc in questo momento lo odia ma sì ma sì dillo forte che sei contento pensa se il lazzari è morto che te ne frega digli bravo al tuo moretto fagli un encomio solenne effettivamente così il maggiore assolutamente tranquillo se ne compiace ad alta voce e sì non sbaglia il moretto esclama come per dire furbo il lazzari credeva che il moretto non mirasse giusto credeva di farla franca è il lazzari e così ha imparato che razza di tiratore era e il tronc anche lui magari sperava che il moretto sbagliasse tutto si sarebbe allora aggiustato con qualche giorno di arresti ah sì sì ripete ancora il maggiore dimenticando nel modo più assoluto che lì davanti c'è un morto un tiratore scelto il moretto finalmente però egli tace e il sergente maggiore può voltarsi a guardare come hanno disposto il cadavere sulla barella è già disteso per bene sulla faccia hanno gettato una coperta da campo di nudo si vedono solamente le mani due grosse mani da contadino che sembrano ancora rosse di vita e di sangue caldo tronc fa un cenno con la testa i soldati sollevano la barella si può andare signor maggiore domanda e chi vorresti aspettare risponde duro il matti adesso con sincero stupore egli ha sentito l'odio di tronc e vuole ricambiarlo moltiplicato con in più il suo disprezzo di superiore avanti ordina tronc avanti march avrebbe dovuto dire ma gli sembra quasi una profanazione solo adesso egli guardava le mura della fortezza la sentinella sul ciglio vagamente illuminata dai riflessi delle lanterne dietro quei muri in una camerata c'è la branda di lazari la sua cassettina con le cose portate da casa una immagine santa due pannocchie un acciarino dei fazzoletti colorati quattro bottoni d'argento per il vestito da festa che erano stati del nonno e che alla fortezza non potevano servire mai il cuscino forse ancora l'impronta della sua testa esattamente come due giorni prima quando egli si era svegliato poi c'è probabilmente anche una boccettina di inchiostro aggiunge mentalmente tronc meticoloso anche nei solitari pensieri una boccettina di inchiostro e una penna tutto questo sarà messo in un pacco e spedito a casa sua con una lettera del signor colonnello le altre cose date al governo passeranno naturalmente ad un altro soldato compresa la camicia di ricambio la bella uniforme no invece e neppure il fucile il fucile e l'uniforme saranno sepolti con lui perché questa è l'antica regola della fortezza capitolo quattordicesimo e al principio dell'alba videro dalla ridotta nuova sulla pianura settentrionale una piccola striscia nera un segno sottile che si muoveva e non poteva essere allucinazione la vide per primo la sentinella andronico poi la sentinella pietri poi il sergente batta che da principio si era messo a ridere poi anche il tenente maderna comandante della ridotta una piccola striscia nera avanzava dal nord attraverso la landa disabitata e parve assurdo prodigio benché già nella notte qualche presentimento fosse andato girando per la fortezza alle sei circa la sentinella andronico mandò per primo il grido di allarme qualcosa si avvicinava dal settentrione come mai era successo a memoria di uomo aumentando la luce sul fondo bianco del deserto spiccò nitida la schiera umana che avanzava qualche minuto dopo come faceva ogni mattina da immemorabile tempo un giorno era stata pura speranza poi solo scrupolo adesso quasi unicamente abitudine il capo sarto prosdocimo salì a dare un'occhiata sul tetto della fortezza ai corpi di guardia lo lasciavano passare per tradizione lui si affacciava al cammino di ronda chiacchierava un po con il sergente di servizio poi scendeva ancora nel suo sotterraneo quella mattina si affacciò dirigendo gli sguardi al triangolo visibile di deserto e credette di essere morto non pensò che potesse essere sogno nel sogno c'è sempre qualcosa di assurdo e confuso non ci si libera mai dalla vaga sensazione che è tutto falso che un bel momento ci si dovrà svegliare nel sogno le cose non sono mai limpide e materiali come quella desolata pianura su cui avanzavano schiere di uomini sconosciuti ma era cosa tanto strana così identica a certi suoi vaneggiamenti di quando era giovane che prosdocimo non pensò neppure potesse essere vera e credette di essere morto credette di essere morto e che dio gli avesse perdonato pensò di essere nel mondo dell'aldilà apparentemente identico al nostro solo che le belle cose si avverano secondo i giusti desideri e dopo essere stati soddisfatti si rimane con l'animo in pace non come qua giù dove c'è sempre qualche cosa che avvelena anche le giornate migliori credette di essere morto prosdocimo e non si muoveva supponendo che non gli toccasse più muoversi come defunto ma che un arcano intervento lo avrebbe riscosso invece fu un sergente maggiore che rispettosamente gli toccò un braccio maresciallo gli disse che cosa non si sente bene solo allora prosdocimo cominciò a capire pressa poco come nei sogni ma meglio scendeva dal regno del nord gente misteriosa il tempo rapidamente passava le palpebre non battevano nemmeno più fissando l'insolita immagine il sole già risplendeva sul bordo rosso dell'orizzonte a poco a poco gli stranieri si facevano più vicini pur con grandissima lentezza qualcuno diceva che ce n'erano a piedi e a cavallo che avanzavano in fila indiana che c'era una bandiera così diceva qualcuno e anche gli altri si illudevano di vedere tutti si mettevano in mente di scorgere fanti e cavalieri il drappo di uno stendardo la fila indiana benché in realtà distinguessero soltanto una sottile striscia nera che lentamente si muoveva i tartari osò dire la sentinella andronico come per spavaldacelia il suo volto essendosi fatto bianco come la morte dopo mezz'ora il tenente maderna alla ridotta nuova ordinò un colpo di cannone a salve colpo di avvertimento come era prescritto nel caso che si vedessero avvicinare reparti stranieri armati da molti anni lassù non si era udito cannone le mura ebbero un piccolo fremito lo sparo si allargò in un lento boato funesto suono di rovina fra le rupi e gli occhi del tenente maderna si volsero al piatto profilo della fortezza aspettandovi segni di agitazione la cannonata invece non fece stupore perché gli stranieri avanzavano proprio su quel triangolo di pianura visibile dal forte centrale e tutti erano già informati persino nel cunicolo più periferico dove l'abbastionata a sinistra terminava contro le rocce perfino al piantone che faceva la guardia al magazzino sotterraneo delle lanterne e degli attrezzi murari a lui che non poteva vedere niente chiuso nella fosca cantina era giunta la notizia e fremeva che il tempo corresse che il suo turno terminasse per andare anche lui sul cammino di ronda a dare un'occhiata tutto continuava come prima le sentinelle rimanevano al loro posto camminando su e giù nello spazio prescritto gli scrivani copiavano i rapporti facendo scricchiolare le penne e intingendole nel calamaio con il ritmo consueto ma dal nord stavano arrivando uomini sconosciuti che era lecito presumere nemici nelle scuderie gli uomini strigliavano le bestie il camino delle cucine fumava flemmaticamente tre soldati spazzavano il cortile ma già incombeva un sentimento acuto e solenne un'immensa sospensione di animi come se l'ora grande fosse giunta e nulla più la potesse fermare ufficiali e soldati respirarono dal fondo l'aria del mattino per sentire dentro di sé la giovane vita gli artiglieri si misero a preparare i cannoni scherzando fra loro ci lavoravano attorno come a bestie da tenere buone e li guardavano con una certa apprensione forse dopo tanto tempo i pezzi non erano più capaci di sparare forse in passato la pulizia non era stata fatta con abbastanza cura bisognava in un certo senso rimediare perché fra poco tutto si sarebbe deciso e mai i porta ordini erano corsi su per le scale tanto veloci mai uniformi così in ordine baionette così lucenti mai squilli di tromba così militari non si era dunque aspettato in vano gli anni non erano stati sprecati la vecchia fortezza dopo tutto sarebbe servita a qualche cosa si aspettava adesso una speciale voce di tromba il segnale di grande allarme che i soldati non avevano mai avuto il bene di udire nelle loro esercitazioni fatte fuori della fortezza in un valloncello riposto perché il suono non raggiungesse il forte e non succedessero malintesi i trombettieri durante i placidi pomeriggi di estate avevano provato il famoso segnale più che altro per un eccesso di zelo nessuno certo pensava che sarebbe potuto servire ora si pentivano di non averlo studiato abbastanza era un lunghissimo arpeggio e saliva ad un estremo acuto qualche stonatura sarebbe probabilmente venuta fuori solamente il comandante della fortezza poteva ordinare il segnale e tutti pensavano a lui i soldati già lo attendevano che venisse a ispezionare le mura da un capo all'altro già lo vedevano avanzare con un fiero sorriso fissando bene tutti negli occhi doveva essere per lui una buona giornata non aveva egli speso la vita aspettando questa occasione il signor colonnello filimore stava invece nel suo ufficio e dalla finestra guardava verso il nord il piccolo triangolo di deserta pianura che le rupi non nascondevano vedeva una striscia di puntini neri che si muovevano come formiche proprio in direzione di lui della fortezza e sembravano veramente soldati ogni tanto qualche ufficiale entrava o il tenente colonnello nicolosi o il capitano di ispezione o ufficiali di servizio con vari pretesti entravano nell'impaziente attesa dei suoi ordini annunziandogli novità insignificanti che dalla città è raggiunto un nuovo cariaggio di viveri che si cominciavano quella mattina i lavori di riparazione al forno che scadeva l'epoca del congedo per una decina di soldati che sulla terrazza del forte centrale era stato preparato il cannocchiale se mai il signor colonnello avesse voluto approfittarne davano queste notizie salutavano battendo i tacchi e non capivano perché il colonnello se ne restasse là muto senza dare i comandi che tutti aspettavano per sicuri non aveva ancora fatto rinforzare le guardie né raddoppiare le scorte individuali di munizioni né deciso il segnale di grande allarme quasi per misteriosa atonia egli osservava freddamente la venuta degli stranieri né triste né lieto come se tutto quello non lo riguardasse per di più era una splendida giornata di ottobre il sole limpido l'aria leggera il tempo più desiderabile per una battaglia il vento agitava la bandiera alzata sul tetto del forte la terra gialla del cortile risplendeva e i soldati passandovi vi lasciavano nitide ombre una bella mattina signor colonnello ma il comandante faceva chiaramente capire che preferiva rimanere solo e quando non c'era più nessuno nell'ufficio andava dallo scrittoio alla finestra dalla finestra lo scrittoio senza saper decidersi si aggiustava senza motivo i baffi grigi mandava lunghi sospiri come proprio dei vecchi esclusivamente fisici oramai la striscia nera degli stranieri più non si scorgeva sul piccolo triangolo di pianura visibile dalla finestra segno che essi si erano fatti sotto sempre più vicini al confine in tre quattro ore forse sarebbero stati ai piedi delle montagne ma il signor colonnello continuava a pulire con il fazzoletto senza motivo le lenti dei suoi occhiali sfogliava i rapporti accumulati sul tavolo l'ordine del giorno da firmare una richiesta di licenza il modulo giornaliero dell'ufficiale medico un buono scarico della selleria che cosa aspetti signor colonnello il sole è già alto perfino il maggiore matti entrato poco fa non nascondeva una certa apprensione perfino lui che non crede mai in niente fatti almeno vedere dalle sentinelle un piccolo giro sulle mura gli stranieri ha detto il capitano forze che è andato a ispezionare la ridotta nuova si distinguono ormai uno per uno e risultano armati portano sulle spalle i fucili non c'è tempo da perdere filimore vuole invece aspettare saranno soldati quegli stranieri lui non lo nega ma quanti sono uno ha detto duecento un altro duecentocinquanta gli hanno fatto inoltre presente che se quella è l'avanguardia il grosso sarà almeno di duemila uomini ma il grosso non si è ancora visto potrebbe darsi che non esista nemmeno il grosso dell'esercito non si è ancora visto signor colonnello solo a causa delle nebbie del nord questa mattina esse sono molto avanzate la tramontana le ha spinte in giù cosicché coprono una vasta zona della pianura quei duecento uomini non avrebbero senso se dietro a loro non scendesse una forte armata prima di mezzogiorno sicuramente compariranno anche gli altri c'è anzi una sentinella che dice di avere visto poco fa muoversi qualche cosa ai limiti delle nebbie ma il comandante va su e giù dalla finestra allo scrittoio e viceversa sfoglia svogliatamente i rapporti perché gli stranieri dovrebbero assaltare la fortezza pensa magari sono normali manovre per sperimentare le difficoltà del deserto il tempo dei tartari è passato essi non sono più che una leggenda remota e chi altri avrebbe interesse a forzare il confine c'è in tutta questa faccenda qualcosa che non persuade non saranno i tartari no signor colonnello ma soldati certamente sono da parecchi anni ci sono col regno del nord profondi rancori non è un mistero per nessuno più di una volta si è parlato di guerra soldati certamente sono ce n'è a cavallo e a piedi probabilmente arriveranno presto anche le artiglierie prima di sera senza esagerazioni farebbero benissimo in tempo ad attaccare e le mura della fortezza sono vecchie vecchi sono i fucili vecchi i cannoni tutto assolutamente arretrato fuori che il cuore dei soldati non fidarti troppo signor colonnello fidarsi o lui vorrebbe bene non potersi fidare per questo ha speso la vita pochi anni gli rimangono ancora e se questa non è la volta buona tutto probabilmente è esaurito non è la paura che lo attarda non è il pensiero di poter morire non gli passa neppure per la mente il fatto è che verso la fine della vita filimore vedeva improvvisamente arrivare la fortuna con la corazza d'argento e la spada tinta di sangue lui che non ci pensava oramai quasi più la vedeva stranamente approssimarsi con volto amico e filimore ecco la verità non osava muoversi verso di lei e rispondere al suo sorriso troppe volte si era ingannato adesso basta gli altri gli ufficiali della fortezza le erano subito corsi incontro facendo le festa a differenza di lui si erano fatti avanti fiduciosi e pregustavano quasi altra volta l'avessero provato l'acre e potente odore della battaglia al contrario il colonnello aspettava fino a che la bella parvenza non l'avesse toccato con mano lui non si sarebbe mosso come per superstizione forse bastava un niente un semplice cenno di saluto una missione di desiderio perché l'immagine si dissolvesse nel nulla perciò egli si limitava a scuotere il capo facendo segno di no che la fortuna si doveva sbagliare e incredulo si guardava attorno dietro di sé dove era presumibile ci fossero altre persone quelle che la fortuna veramente cercava invece non si scorgeva nessun altro non poteva esserci errore di persona egli doveva convenire che proprio a lui era destinata la invidiabile sorte c'era stato un momento alle prime luci dell'alba quando sul biancore del deserto gli era apparsa la misteriosa striscia nera un momento in cui il suo cuore aveva ansimato di gioia poi l'immagine corazzata d'argento e con la spada insanguinata si era andata facendo un poco più vaga e camminava sì ancora verso di lui ma in realtà non riusciva più ad avvicinarsi ad accorciare la breve e pure infinita distanza la ragione è che filimore ha aspettato già troppo e a una certa età sperare costa grande fatica non si ritrova più la fede di quando si aveva vent'anni troppo tempo egli ha aspettato in vano i suoi occhi hanno letto troppi ordini del giorno per troppe mattine i suoi occhi hanno visto quella maledetta pianura sempre deserta e adesso che sono apparsi gli stranieri alla netta impressione che debba esserci uno sbaglio troppo bello altrimenti ci deve proprio essere sotto un madornale sbaglio intanto la pendola di fronte allo scrittoio continuava a macinare la vita e le magre dita del colonnello asciugate dagli anni si ostinavano a ripulire con l'aiuto del fazzoletto i vetri degli occhiali sebbene non ce ne fosse bisogno le lancette della pendola si approssimavano alle ore dieci e mezzo e allora nella sala entrò il maggiore matti per ricordare al comandante che c'era rapporto ufficiali filimore se n'era dimenticato e ne fu sgradevolmente sorpreso gli sarebbe toccato parlare degli stranieri apparsi nella pianura non avrebbe potuto più rinviare la decisione avrebbe dovuto definirli ufficialmente nemici oppure scherzarci sopra oppure tenere una via di mezzo ordinare misure di sicurezza e nello stesso tempo mostrarsi scettico come se non ci fosse da montarsi la testa ma una decisione bisognava pur prenderla e ciò gli dispiaceva egli avrebbe preferito continuare l'attesa rimanere assolutamente immobile quasi a provocare il destino affinché si scatenasse davvero il maggiore matti gli disse con uno dei suoi ambigui sorrisi pare che ci siamo stavolta il colonnello filimore non rispose il maggiore disse se ne vedono arrivare degli altri adesso tre file sono si possono vedere anche di qua il colonnello lo guardò negli occhi e arrivò per un attimo quasi a volergli bene ne arrivano ancora lei dice anche di qua si possono vedere signor colonnello sono parecchi oramai andarono alla finestra e sul triangolo visibile della pianura settentrionale scorsero nuove piccole strisce nere in movimento non più una come all'alba ma tre affiancate e non se ne distingueva la fine la guerra la guerra pensò il colonnello e in vano cercava di scacciarne il pensiero come se fosse desiderio proibito alle parole del matti la speranza si era risvegliata ed ora lo riempiva di orgasmo turbinandogli così la mente il colonnello si trovò ad un tratto nella sala delle riunioni dinanzi a tutti gli ufficiali schierati eccetto quelli in servizio di guardia sopra la macchia azzurra delle divise splendevano di pallore facce singolari che gli stentava a riconoscere giovani o avvizzite esse gli dicevano tutte la stessa cosa con gli occhi accesi di febbre chiedevano avidamente a lui il formale annuncio che erano giunti i nemici diritti sull'attenti tutti lo fissavano con la pretesa di non essere defraudati nel grande silenzio della sala si udiva soltanto il respiro fondo degli ufficiali e il colonnello capì che doveva parlare fu in quegli attimi che si sentì invadere da un sentimento nuovo e sfrenato con meraviglia senza scorgerne le ragioni filimore ebbe l'improvvisa certezza che gli stranieri erano veramente nemici determinati a forzare il confine non capiva proprio come fosse successo lui che fino a un momento prima aveva saputo vincere la tentazione di credere si sentiva come trascinar via dalla comune tensione degli animi capiva che avrebbe parlato senza riserve signori ufficiali avrebbe detto ecco giunta finalmente l'ora che aspettiamo da molti anni questo avrebbe detto o qualche cosa di simile e gli ufficiali avrebbero ascoltato con gratitudine le sue parole autorevole promessa di gloria in questo senso egli stava oramai per parlare ma ancora dai recessi del suo animo si ostinava una voce contraria è impossibile colonnello diceva questa voce sta attento fino a che sei in tempo c'è uno sbaglio troppo bello altrimenti sta attento perché c'è sotto un madornale sbaglio nella commozione che lo stava invadendo affiorava ogni tanto questa voce nemica ma era tardi l'indugio cominciava a farsi imbarazzante e il colonnello fece un passo avanti alzò la testa come era sua abitudine quando cominciava a parlare e gli ufficiali videro che il suo volto si faceva improvvisamente rosso sì il signor colonnello arrossiva come un bambino perché stava per confessare il geloso segreto della propria vita era delicatamente arrossito come un bambino e le labbra stavano per emettere il primo suono quando la voce ostile si ridestò dal fondo dell'animo e filimore ebbe un tremito di sospensione gli parve allora di udire un passo precipitoso che saliva le scale che si approssimava alla sala dove essi erano riuniti nessuno degli ufficiali tutti tesi al loro comandante se ne accorse ma le orecchie di filimore in tanti anni si erano addestrate a distinguere le minime voci della fortezza il passo si avvicinava non c'era dubbio con inconsueta precipitazione aveva un suono estraneo e squallido un suono da ispezione amministrativa veniva direttamente si sarebbe detto dal mondo della pianura il rumore giungeva ora distinto anche agli altri ufficiali e li ferì volgarmente nell'animo senza che si potesse dire il perché si aprì alla fine la porta e comparve uno sconosciuto ufficiale dei dragoni che ansimava dalla fatica coperto di polvere si piantò sull'attenti tenente fernandez disse del settimo dragoni porto questo messaggio dalla città da parte di sua eccellenza il capo di stato maggiore reggendo elegantemente il suo lungo berretto con il braccio sinistro piegato ad arco si avvicinò al colonnello e gli consegnò una busta sigillata il filimore gli strinse la mano grazie tenente disse deve avere fatto una bella corsa mi pare il collega santi adesso l'accompagnerà rinfrescarsi un poco senza far trasparire neppure l'ombra dell'inquietudine il colonnello fece un cenno al tenente santi il primo che gli era capitato sott'occhio invitandolo a fare gli onori di casa i due ufficiali uscirono e la porta fu richiusa permettete non è vero chiese con un sorriso sottile filimore facendo vedere la busta ad indicare che preferiva leggerla addirittura le sue mani staccarono delicatamente i sigilli strapparono un lembo tolsero un doppio foglio coperto tutto di scrittura gli ufficiali lo fissavano mentre leggeva cercando di vedere riflesso nel suo volto qualche cosa invece niente come se avesse scorso un giornale dopo cena seduto al camino in una letargica sera d'inverno solo il rossore era scomparso dalla faccia asciutta del comandante come ebbe finito di leggere il colonnello piegò il doppio foglio lo introdusse nuovamente nella busta si mise la busta in tasca e alzò la testa facendo segno che stava per parlare si sentiva nell'aria che qualcosa era successo che l'incanto di poco prima era stato spezzato signori ufficiali disse e la voce faceva grande fatica c'è stata stamane fra i soldati se non mi sbaglio una certa eccitazione e anche fra voi se non mi sbaglio a motivo di reparti avvistati nella cosiddetta pianura dei tartari le sue parole si aprivano con stento una via nel profondo silenzio una mosca volava su e giù per la sala si tratta continuò si tratta di reparti dello stato del nord incaricati di stabilire la linea di confine come venne fatto da noi molti anni addietro essi perciò non verranno dalla parte della fortezza probabilmente si distenderanno in gruppi scaglionandosi per le montagne così mi comunica ufficialmente in questa lettera sua eccellenza il capo di stato maggiore il filimore parlando mandava lunghi sospiri non moti di impazienza o dolore ma sospiri esclusivamente fisici come proprio dei vecchi e simile a quella dei vecchi pareva essersi fatta d'improvviso la sua voce per certe flaccidità cavernose e ugualmente i suoi sguardi divenuti giallastri e opachi se l'era sentita fin da principio il colonnello filimore non potevano essere nemici lo sapeva bene lui non era nato per la gloria tante volte si era stupidamente illuso perché si domandava con rabbia perché si era lasciato ingannare se l'era sentita fin da principio che doveva finire così come loro sanno continuò con un accento troppo apatico per non riuscire estremamente amaro i cippi di confine e gli altri segni di demarcazione sono stati da noi già fissati anni addietro resta però come mi informa sua eccellenza un tratto non ancora definito manderò a completare il lavoro un certo numero di uomini al comando di un capitano e di un subalterno è una zona montagnosa con due o tre catene parallele è superfluo aggiungere che sarebbe bene portarsi più avanti che sarà possibile assicurarsi il ciglione settentrionale non che strategicamente sia essenziale sebbene loro mi capiscono perché lassù una guerra non potrà mai avere sviluppi né offrire possibilità di manovra si interruppe un momento perdendosi in qualche pensiero possibilità di manovra dov'ero dunque rimasto diceva che bisogna portarsi avanti il più possibile suggerì il maggiore matti con compunzione sospetta ah già dicevo che bisognerebbe portarsi avanti il più possibile purtroppo la cosa non è facile noi ci troviamo ormai in ritardo su del nord comunque 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 se ne parlerà più tardi concluse rivolgendosi al tenente colonnello nicolosi tacque e sembrava affaticato egli aveva visto sulle facce degli ufficiali scendere mentre lui parlava un velo di delusione li aveva visti da guerrieri ansiosi di lotta ridiventare in colori ufficiali di guarnigione ma erano giovani pensava loro facevano ancora in tempo bene proseguì il colonnello mi duole adesso dover fare un rimarco che riguarda parecchi di loro ho notato più di una volta che al cambio della guardia alcuni plotoni si presentano nel cortile non accompagnati dai rispettivi ufficiali questi ufficiali evidentemente si ritengono autorizzati a giungere più tardi la mosca volava su e giù per la sala la bandiera sul tetto del forte si era afflosciata il colonnello parlava di disciplina e di regolamenti nella pianura del nord avanzavano schiere di armati non più nemici avidi di battaglia ma soldati innocui come loro non lanciati a sterminio bensì ad una specie di operazione catastale i loro fucili erano scarichi le daghe senza filo giù per la pianura del nord dilaga quella inoffensiva parvenza di armata e nella fortezza tutto ristagna di nuovo nel ritmo dei soliti giorni grazie a tutti